Ci siamo, devi iniziare il match, non ho i guantoni, il match è relativo, dobbiamo parlare di spazio, io non ho fatto niente, ciao a tutti i ragazzi, qui con me c'è Federico Frusciante, e Victor Laszlo 88, li ho invitati perché? Perché io li seguo da una vita tutti e due, sono decente così, non sono molto erato, per queste robe qua, comunque Frusciolo lo seguivo per i pareri un po' più spinti, un po' più cattivi, ma anche per l'enorme lavoro di divulgazione che ha fatto su autori che non conoscevo, che conoscevo già, ma non al 100%, ha rivelato tantissimi particolari su film nascosti, di nicchia, sul film orientale, anche sulla musica, e Vic ovviamente perché mi piacevano molto le sue recensioni più pop, più di trasporto, collegate ai fumetti, collegate agli anime, insomma la roba che seguivo molto, però mi hanno sempre colpito le loro recensioni appunto dei cinecomics, perché sentivo Victor e poi andavo da Frusciante e lui diceva esattamente l'opposto, quindi ho deciso di invitarli tutti e due per fare una sorta di pezzo di maratona monografico sullo Spider-Man cinematografico, cioè partendo dagli esperimenti degli anni 70 che ci tenevi a citare, fino a Raimi, poi Webb e infine il Marvel Cinematic Universe, compreso ovviamente i film, magari i miei sciamponi e lo splendido Into the Spider-Verse, però non voglio assolutamente influenzarvi, quindi lascio la parola a loro e mi occuperò di switchare un po' qua e là le camere. Va bene. Grazie, grazie di essere vinta. No, grazie a te. Grazie a te. E allora, precisiamo che tu non hai visto No Eon, che è quello che si chiedevano tutti. No, ma per il semplice fatto che io l'avrei anche, te l'avrei andato anche a vederlo volentieri ieri, ma i biglietti erano finiti da una settimana. Non sei riuscito a... E quindi o vado lì, poi con la situazione Covid è anche più difficile, perché in un altro modo magari uno si presenta al cinema, c'è o mi fai entrare, ti fai entrare, perché comunque ti riconosce, fa una foto, solo che in questo modo ora è praticamente impossibile, se sono pieni i posti non ti fanno entrare. E' quello che secondo l'epoca è altamente pieno, che lo vedi sulle scale. Sì, l'amore di due, sì. Però era molto più libero, insomma. Sì, beh, era diverso. Quindi non sono riuscito proprio a vederlo, ho cercato di leggere qualcosa in giro, ho cercato di vedere più teaser, trailer, più pezzetti, film cariati a cazzo di ane su Facebook dalla gente, tanto perché così gli piace rubare dal cinema. Sì, tutti i ripresi col telefono dalla sala. Sì, poi non ho avuto modo. Guarda, ho come l'impressione che non sia molto il tuo cerco. Ma no, è tanto quello che ho notato, la trama è quella, a meno che non fossi diretto da Kubrick, come il Fattriaccio fuori. No, la trama, secondo me a livello di trama, ma poi anche a livello di regia, non è questo che è proprio un film che ha puntato sul fanservice, che poi è quello che la gente voleva alla fine, quindi ha puntato su quello, emoziona chi deve emozionare, a me ad esempio è emozionato, però se parliamo di regia, di montaggio e di scrittura, i personaggi sono scritti abbastanza bene, la scrittura generale lascia un po' desiderare, però... Quindi se te dici così, per me sarà una merda. Sì, 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 secondo me è una roba che lo devasti, lo calpesti con lo strano. Vabbè, ma visto la merda che sta facendo la Marvel ultimamente? Anche te, ma se non ti piace? Ragazzi, Black Widow è da denuncia per noi, Shang-Chi è da rinchiuderli, Eternals Shang-Chi non è piaciuto anche mai? Eternals mi sta anche di più sul cazzo. Ma perché? Perché sì, perché vogliono fare anche i seriosi, ma andate in culo un quattro scemi, un'altra volta li stico da buffoni, basta. No! Sì, ste buffonanti. Secondo me non è male. Siccome non torna più un cazzo, parallelano un università a tutte le parti, non torna più una sega, facciamo che non torna ancora più una sega, tanto lo vanno a vedere i fan e basta. Quindi anche resisticamente ti è piaciuto? Ma che me ne frega della regia, ci resta una sostanza a un film? No, certo, siccome Eternals era molto più sostanzioso di altri che hanno fatto, ma per me è come uno di quelli migliori. Ma vabbè, se ci si mette accanto l'homorantio lì per forza. Vabbè, ma no. Però sempre si parla di gente, insomma, che ci vogliono far credere sì, non è, non sono film, non sono più nulla, anche Eternals è un casino. C'è gente che appare che se non vedi la serie di un ci capisci nulla. Vabbè, Eternals è comprensibile, è molto… E' comprensibile, sì, è scritto da Mimmo di Valtranni, è comprensibile. No, 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 leggiamo. Ma dai, via, è roba da tortelli. Vabbè, ovvio, se lo paragoni a Nomadland non ci incasta niente. Ma guarda che a me non è piaciuto nemmeno un granché. Ah, non ti è piaciuto Nomadland? Non un granché, il film è ben fatto, tocco un argomento che mi piace, però anche lì mi sembra che lo tocchi un po' villanamente, un po' furbescamente. Però perlomeno tocca un argomento. Ok, tu dici… Ma allora a questo punto andrei sugli Spider-Man a partire, tu vuoi partire da quelli degli esperimenti… No, non è che tanto, siccome si dice che tutti vanno a vederlo a Mimmo di Valtranni al cinema, non si dà che mi dicono te odio a Mimmo di Valtranni, io in realtà quando ero bambino metto tutti i bambini a Mimmo di Valtranni, quindi per le mie esperienze al cinema delle prime sono state quelle col biondone, col Peter Parker il più bello dell'universo, che tirava le vetri a pescatore, che ripeto c'era quel montaggio fantastico, lui faceva così e poi staccava e vedeva questa rete volava per aria, tirata chiaramente anche male tutta via… E mettevano sul pavimento una finta facciata di palazzo, al contrario, c'era lui che andava a stisciare… Quello che è bello è che era il sistema che continuavano ad utilizzare, solo che l'avevano fatta veramente di merda, anche perché poi da grande, più da grande, sui 14-15 anni avevo scoperto che in realtà questi tre film che ci mandarono anche io video al cinema non erano altro che tre, sei episodi di una serie di due compattati in doppio e quindi non era un film e si capiva poi dopo, certo, comunque continuo ora che sono più grande a non capire il delirio di prendere un Peter Parker di due metri biondo, continuo a non capirne il delirio, però c'avevamo anche di Chip che era affascinante in un certo senso, se lo vuole adesso un po' lascia un po' desiderato, lascia un po' desiderato a fare veramente cazzo, vabbè ma era proprio una roba, ma anche perché non essendo un film aveva anche il budget di un film, sì ma era proprio, è che secondo me proprio dispiace per lo dire ma il fumetto in genere comincia ad andare su un meglio negli anni 80-90 anche perché comincia ad arrivare a effetti speciali più possibili, vabbè già viene sostanza con il Superman di Donner, sì ma Superman di Donner se lo guardi ora comunque vola, pare che lo stiano sparando, no beh certo, però comunque per gli anni che in cui è uscita non era malissimo, no 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 ma il film per me resta il miglior film di Superman mai fatto quindi vabbè ma sicuramente è meglio di Man of Steel eh, proprio, Man of Steel guarda, pensavo se parlasse di cinema, ah ok scusa, beh Man of Steel era veramente una roba, beh invece Batman contro Superman intelligente, invece c'è uno e due sono due corpi di gente, no 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 no, per quanto riguarda Man of Steel e Batman Superman io proprio, Batman Superman l'ha fatto incazzare doppiamente perché io trovo allucinante, ha voluto fare come faceva Nolan senza saper fare quello che ha fatto Nolan, che poi so che a te non... Ma non è questione, è che Nolan comunque ha un talento e quell'altro no, quindi se sei uno che fa quattro ore di pappone di merda ma è Justice League Snyder, è un diren di onto che è una merda, cioè come fai a capirlo? Cioè si nota anche, l'hai diviso anche in sei capitoli, è fatto un quattro terzi, l'ha capito anche il più scemo del mondo che quel film lì è stato fatto per essere una serie tv di bisanziai episodi e che poi l'hanno sparato tutto insieme, io quello me lo sono contato perché ero in poltrona, perché al cinema mi sarei rotto i coglioni sicuramente io invece non me lo sono contato proprio perché ero in poltrona, cioè se sono al cinema tanto tanto lo spettacolo mi aiuta anche un po' di più, anche se mi fa schifo ma in poltrona... Però quattro ore, io non so se sto al cinema quattro ore... Ma io quattro, io sono abituato, cioè io ho visto film da otto, non me ne frega nulla a me dell'ora, cioè il problema netto... Ma io parlo di quello... Ma no, io il cinema, per me il cinema è sempre anche il film brutto, se dura tanto un interesse perché sto al cinema, la piglio come un'altra esperienza, cioè come se vado a un teatro e lo spettacolo è brutto, è mame, l'ho pagato, me lo guardo, fai esperienza uguale, è che si può, poi tornando all'uomo ragno di sennò ci si... Lo spippolante, lo spippolante degli anni 70 aveva estosa che mi rimane a me di gioventù quando lo vedo fa veramente schifo, cioè... Poi si erano inventati il cattivo, non mi ricordo... Ma beh, quello che mi ricordo è che... Ma poi erano cattivi, c'era un certo punto, c'era una mafia della Yakuza perché poi hanno fatto la serie quella che era già... Su Piderman, quella che aveva il Megazop praticamente... Si, era tipo Ultraman, c'era una roba di... E io quindi mi dicevo, poi in realtà nessuno, forse la gente lo sa che fece... Gli ho dato, negli anni 80, fece le Barbarians, che abbia un grande successo nel mondo, con la Cannes, e gli offrirono di fare l'uomo ragno. E lo rifiutò. Dopo un po', il problema grosso è che in realtà poi la casa, quando iniziavano a partire, fece due, tre insuccessi e fallì. Ah, ecco. Se no doveva fare lui, poi lo doveva fare Cameron. Sì, è vero, iniziavano e poi l'ha dato a Remy. Cameron perché poi invece era impallato con Avatar. Sì, che poi si era rimasto impallato per una decina d'anni ancora. Ma ancora bene, fa bene, tanto è pieno di soldi, così fa un bel film, invece li fa la solita cazzata perché tutti glielo chiedono. È la differenza. A te prima era piaciuto gli avutati? È meraviglioso, ne fa un piacere mille. Infatti adesso usciranno gli altri, vediamo come sono. Bellissimi, è James Cameron. Hanno fatto vedere l'altro giorno o c'era la notizia su come ha fatto le scene subacqua? Perché il secondo è quasi tutto ambientato nel mondo sottomarino di Pandora, che già è una cosa interessante perché comunque diversifichi un po'. Ma lui aveva fissato. Aveva fissato, ha fatto oltre ai documentari Alien in the Deep e tutte le cose. Ma lui faceva immersioni con il sottomarino? Sì, ci fece due documentari meravigliosi tra Titanic e Avatar, proprio per cercare di trovare prima il Titanic, per cercare di arrivare a pigliare Titanic e costruire una macchina da pesa che non implodesse. E ce l'ha fatto. Ci ha provato. L'aveva fatta, perché in Titanic vediamo il vero relitto di Titanic per la prima volta. Poi aveva già fatto Abyss, insomma lui col mare dove aveva fatto le città la gente a 200 metri d'acqua, sull'acqua, c'è dentro i bidoni, c'è il corso, le messiamo, ed Eris manca più no, c'è la scena in cui sta affogando in Abyss. Ovviamente affoga veramente. Sì, stava affogando davvero che voleva minare Cameron perché lui va e va e continua, continua tanto lo sta affogando. Sì, ma lui è uno un po' rustico. Cameron è un vecchio a scuola. e regia, io decido che fai. Sì, addirittura lui doveva fare Alita, ma poi non l'ha potuto fare Alita Rodriguez. Alita Rodriguez anche lui ha fatto un altro bel film, altro flop, chiaramente. Quindi Alita non vedrò mai continuarlo. Ormai funziona tristemente così. Ma quella giapponese era un esperimento. La giapponesia a me mi diverte come tutte le azzate giapponese di quel periodo. C'è delle osse. Anni 70 anche quella da? Sì, c'ho delle cose molto carine, però vabbè una serie tv, Scrauser, come erano Scrauser, il film l'ho visto io. Super Sentai, quella roba lì comunque alla fine. E' roba che, cosa ti posso dire? Io mi ci diverto perché da piccino li guardavo tutto, fiamma di megalopoli, sti cazzi. Però poi si cresce, guardo la fiamma di megalopoli, ci posso far sorriso, perché guardavo a sette anni. E poi però decenni a me si mi pagano ora, mi guardo lo volante e tira le reti da pesca o fiamma di megalopoli, diciamo. E se ci fessi l'avevano rielaborato bene, quello è venuto dal pianeta Spider, aveva il braccialetto che gli iniettava la mia terra e la trasforma la madre. Molto più interessante comunque dell'ultimo film evidentemente, perché comunque aveva una trama particolare, perlomeno si stia, perlomeno. Vabbè una trama, ma vabbè, quindi si arriva poi al primo film su... Sì, perché di Remy, perché io in realtà questo sinceramente l'ho già a grandicello, perché sono primi anni 2000. 2002, sì. E quindi io avevo 30 anni e quando vai a vedere 30 anni in un film non vai a vedere l'Uomo Ragnar, sinceramente io per i miei gusti, per la mia contempatibilità, io sono andato a vedere Remy. Io aspettavo un film di Sam Remy, sono andato a vedere Sam Remy. Quindi ti interessa anche quello nuovo che deve uscire? Mi interessa e non mi interessa, nel senso, mi interessa perché è Sam Remy. Mi interessa un po' meno perché per tornare a fare i film, ma dopo più di 10 anni deve tornare a fare un cinefometto. E purtroppo hai contato con Disney. E i 4-5 progetti che ho visto io, che avevo letto in rete che lui voleva fare, che aveva dichiarato alla Disney, li erano a cassa di tutti. È a cassa di tutti. L'ultimo che ho fatto è Il grande e potente hozzo. Sì, e chiedevo. Tipo 12 anni fa, cioè si parla di un regista. Sì, è una tristezza che un regista come Sam Remy debba non lavorare per 10 anni e poi perché ricassano tutti i progetti propri per poi trovarsi a dover rifare Dottor Strange che probabilmente, come sempre con Sam Remy, anche se su commissione, farà un buon lavoro. Io però, boh, io, questa è forse colpa mia, io sono veramente limitante e questi registri debbano fare tutti per forza un cazzo di cinefometto, sennò non tornano a lavorare. Cioè me lo disse anche Ciotante dopo l'intervista, mi ha fatto, sai quanti cinefometti ho rifiutato? Cioè, perché non ho voglia a 70 anni di mettermi lì a fallo moragno, ho delle cose. Per Ciembro ci ha mai dato, eh, salutiamo. Ah, ciao Mara. Però sai cosa? Ciao Davide. A me ricordo un po' quello che era successo con Romero, che l'avevano parcheggiato per 10 anni. Con Romero gli ho fatto l'intervista, dopo un'ora mi ha detto cose che è meglio che non ripeta. Non è che ormai poverino è morto, le potrei dire. Però meglio, tanto sono discorsi mie e suoi, però era meglio non andare a chiedere a Romero cosa pensava di una marvele cinefometti. Fidati. Posso immaginare. No, 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 ma per lui il cinema è una cosa seria. Quindi lui, come al solito, ha detto, lui salvava 3, 4 film, 5 in genere, e indovina apposta salvava, e Barton, e Remy. Cioè, lui guarda, quelli, secondo lui, il cinema, come era Romero, e i migliori autori di cinema, quando fanno qualcosa, bisogna che abbiano bisogno di esprimere qualche idea, qualcosa che hanno voglia. Quindi se tramite un super fumetto, un super marvele, un super lì, sì, o super questo cazzo, lo puoi tirar fuori, questo... Quest'idea è bene, se no lavori su commissione... Finirà anche questa tendenza. No, fai come i fratelli russo, gente che sa fare film tecnicamente, ma che se trova una buona sceneggiatura come Capitan 2, lì, Winter Soldier, può tirar fuori un bel film. Gli dai in mano una sceneggiatura da sciagurati, non è gente che lotta per avere una sceneggiatura bella. Però, sai quel problema è che... Il problema di questi futecisti è che, ripeto, è gente che impara a sonare, come tanti chitarristi che sono bravi a far bacca la itarra, ma non sanno scrivere la insona. Quindi è gente che tecnicamente sa fare il suo lavoro, però, ti ripeto, Remy combatte per determinate scelte, anche se la sceneggiatura non è sua, e fa diventare suo un film. Se invece arrivano i fratelli russo, questa sceneggiatura, questi soli attori, questo è, questa è la colonna sonora, non c'era un pedicogliore e gira. Cioè, è proprio un'altra responsabilità. Però i Remy hanno, secondo me, i Remy hanno concesso quantomeno una cosa, nel senso che loro volevano fare una sorta di horror per ragazzi, avevano i Remy, almeno gli hanno dato qualcosa in cui lui è bravo e si può sbizzare. Io spero lo facciano sbizzare. Però non credo che sarà mai un Drag Me to Hell. No, ma non potrà mai essere. E quindi Remy un po' lo uccidi, perché in realtà i primi Spider-Man non erano assolutamente considerati poi così blockbuster. Ci provarono, come il primo X-Man, con budget relativamente alti. Quindi ci provarono, poi ha avuto un successo talmente ampio, ma in realtà... E' il primo in cui si faceva la licenza. Sì, ma se vedi, all'epoca, lui dice, Remy, che comunque il primo Moragno gli diedero già l'80% di libertà e il secondo praticamente il 100%. E il terzo poi sappiamo che... Il terzo invece, siccome il secondo poi in realtà ha la critica a tanti più che altro, va detto, perché è questo che è strano. Che poi magari è ribaltato dopo vent'anni. Ma quando uscì l'Uomo Moragno 1 e 2, io mi ricordo molto, molto che in realtà i fan, gli amanti dell'Uomo Moragno e il fumetto, lo detestavano quello di Samrino. Sia il primo che il secondo, rompevano i coglioni a parte, ma lo detestavano. Perché essi non capiscono un cazzo di cinema e vogliono che facciano fumetti. Sì, ma è come i Batman di Barton. Batman di Barton, non so, migliori Batman visti al cinema perché hanno un senso, perché sono cinema di grandissimo livello. Sì, ma anche il fumetto hanno una corrispondenza relativa. Ma chi se ne frega del fumetto? Eh, non lo so, però di me di pensare. Ma io non devo pensare a nulla, il regista, io devo pensare cinema. A me non me ne frega un cazzo da dove viene. Cioè, a me se non fai Dostoievski, allora tocchi Dostoievski e lo fai di merda, allora è un discorso. Cambi tutto, cambi d'elitto e castigo fai, porca troia, ma lo fai diventare un media come Othello, allora ti incazzi di molto di più. Perché comunque, cazzo, mi tocchi Shakespeare. Ma hai toccato l'Uomo Moragno. Cioè, è una cosa interessante, è una cosa pop, ma non è un capolavoro della letteratura. No, 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 sicuramente. Facciamo passarmi un par di centinaia d'anni e vediamo se il continuo a resistere. Cioè, diamone che Shakespeare sono 500, resiste. Ha superato la metà, beh. Ha superato mezz'opera. Ma è il mezzo secolo, però, di Osa, di nulla. Perché il mezzo secolo di adesso è molto, molto più. No, però io parlo del personaggio, la sua stare è solo in generale. Io ti dico, bisogna che arrivi a 500 anni, sto personaggio. Ah, è la sicura Shakespeare, ok. Per essere Shakespeare. Cioè, quindi, non è che t'ho toccato, t'ho toccato una Osa che è nata come sparava Pimpoli. Cioè, ragazzi, comunque erano fumetti per ragazzi che pigliavano anche gli adulti, giustamente, ma che a un certo punto, se io chiamo Sam Raimi e gli do mano a un film, io voglio un film di Sam Raimi, che ci sia l'uomo ragno, mi pare il minimo, si chiama Spider-Man e quindi ci deve essere l'uomo ragno. È normale. Ma è da sbagliato pensare di faccio fare un film alla Sam Raimi e vi faccio fare il film che vuole fare il classico fan del fumetto, quando poi per primo Sam Raimi era un fan del fumetto, l'ho fatto per quello. Ma è stata una elaborazione, allora, il primo io sono legatissimo, cioè il primo era. Ma il primo è un film meraviglioso, ragazzi. Ma il primo sì, niente da dire. Allora, nel primo noi abbiamo una costruzione drammaturgica e, diciamo, narrativa che è quella del fumetto. Al di là di quello che poi uno può cercare, l'inizio, lui che lo si è in more, ma la costruzione è quella dell'eroe, sì. Lui che va a fare wrestling, quello è uguale al fumetto, l'essereo è proprio uguale. Ma Raimi inserisce, in realtà, uno stile di regia e un modo di fare un personaggio che non vuole la gente adesso perché è troppo cino al nerd veramente fallito. E ormai, secondo me, già nel 2001-2002, il nerd non voleva più sentirsi fallito e quindi gli dava noia che Peter Parker fosse... E allora è per quello che riguarda proprio la merda di Amazing Spider-Man. Però piacque, comunque, eh. Perché ci hanno messo il fighetto col capello tagliato bene che pare uscito da... Da, 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 veramente un... Tom Holland, oltre a non sapere recitare un cazzo... Ma aspetta, queste parole di Garfield... Sì, Garfield, allora, sono intercambiabili. Tutti e due incapaci, tutti e due al solito taglio di apelli, eh, ci hanno preso due... Eh, sì, eh, poverini, eh, Garfield è veramente, come si può dire, è proprio il classico esempio di come li chiamo io, i punti interrogativi. Cioè, uno che non sa recitare, fa film di merda, ne parlano tutti. Ma è un po' che Garfield... E fai buh, e fai questa cosa, vincu. E all'altro, Tom Holland, ha beccato un film in vita sua, fa altre home copieppoli, e tutto, e il resto è fa... Cioè, sono attori, non sono attori. Cos'è che ha beccato? Garfield è un attore. Ma secondo me, l'unico se ha beccato, secondo me, è la figlia sua, la pistola è buona. Quella l'ha beccata, vai tranquillo, non credo lui, credo più il conto in banca, però quella l'ha beccata. No, perché? E come perché? Perché dammi retta a me Garfield e a Holland, con quei visi lì, portano a Livorno, non arrivano a riuscire a tutti i fili all'anno, è la verità. Quando va moragno, lasciano miliardi e beccano le figlie, e questo lo devo spiegare, io me funziona. No, vabbè, però... Te vale lo stesso, eh. Vabbè, dai, dai, penso che comunque... Vale per le donne e potre... No, vabbè, è chiaro che si nota proprio, cioè, l'uomo ragno di lui, Tobey Maguire, non è bello, è un tipo particolare, c'è una faccia strana. Ma la faccia al culo, no? No, no, è un grande attore. Ma il grande attore è Tobey Maguire. Un grande attore. Ma è un grande attore, Tobey Maguire. Ma la faccia al culo è impossibile, no? Beh, vuol dire che non hai idea di cosa sono i grandi attori. Eh, no, sicuramente. Faccio la culo è Tom Holland, guarda la filmografia di Tobey Maguire e via mi ha detto se non ha fatto Pleasant Evil e se non è un genio in quel film. E via me la dì. E te trovami in firme di Garfield e Holland, a livelli dei film ha fatto lui. Poi sei venduto all'omoragno perché ha fatto Remy. Non è un caso che quando gli hanno detto Remy non c'è più, a te la guarda, cazzo. Ma ha anche avuto dei problemi suoi. Ma più che problemi suoi, Remy non c'è più. Io da questo il coglione che ha fatto 40 giorni insieme e con questa sceneggiatura decerebrata io non la faccio. Ma è normale, se ne è andato tutto, tutta la truppa. Cioè è normale. Ma ha proprio voluto cambiare loro. No, no, non è che hanno voluto cambiare loro, è che Spider-Man ha iniziato a girare. Spider-Man 4 dopo una settimana, Sam Remy ha fatto andatevene tutti in culo, se ne è andato dal set, è stato protestato e tutti quelli che lavoravano con Sam Remy ci si leva di l'uno. Perché lui voleva fare una cosa completamente differente. Perché lui voleva fare un film di Sam Remy, ti ho fatto tre firme, tutti e tre successi, non ti mi ha rompe coglioni per darmi ancora... E questo è il problema di Veste Calle qui. Cioè datemi la libertà al 100%, ma cosa ve ne fotte? Tanto l'uomo ragno lo vanno a vedere anche se lo giro io. Cioè questo non avete capito. Se lo giro io ci metto il lupio, il protagonista, è pieno domani. Cioè l'uomo ragno non funziona per il film. Perché questo è il brutto di fare queste discussioni. Non funziona mai per quello che c'è davvero sullo schermo. Ma funziona perché il brand è quello che funziona e è fatta. Non c'è più un film della Marvel ormai da dieci anni che fa il flop. Non c'è più. Vabbè qualcosa c'è stato. No flop no. Flop io intendo che non ha incassato almeno 800 milioni. Non esiste. Beh adesso c'è la pandemia quindi ok. Per gli ultimi non hanno incassato. Vabbè Black Widow beh basta. Shang-Chi ha fatto un miliardo. Ha fatto meno di Black Widow. Ma ha fatto... Vabbè ma Black Widow... No ha fatto un miliardo. Cioè l'ho detto... Vabbè... Ha fatto 370 milioni. Ma non c'è la scina. E c'è la scina che è l'80% ormai dell'incassi che è del tutto perché sei giustamente scesi. Guardi per film e li fai che è. Dipende poi dal film per esempio... Metto il supereroe cinese che è prameriano. Eh sì. Cioè i cinesi sono tutti stronzi. I cinesi non lo odiano. Una volta per il supereroe cinese non capisci. Oltre a conto essere completamente rincoglianito. Io l'ho odiato quel film. Il film è rinomato. Black Widow è proprio una cosa... Non ti è piaciuto Zero. Ma come si fa? Cioè era un personaggio idiota. A cui non interessava niente a nessuno. E se quello è il classico film... Abbiamo scritto di merda di Avengers Endgame. Ci siamo scordati di far funerale alla vedova nera. Perché non contava una sega. Ma no. È la verità. Lo fanno a Tony Stark e nessuno ne dice povera vedova nera. Ne frega un cazzo a nessuno. È la verità. Oltre a non tornare un cazzo, te lo ridi io perché se porti la pietra... Quell'osa non me la reverò mai. Lei è morta perché si è buttata di sotto. Già uno non doveva pigliare la pietra perché doveva essere sacrificato da chi lo amava. Questo ce l'ho detto nel primo. No, no, no. Dicevo che devi perdere. No, no, no. Lo dicevo. Devi sacrificare per... Perdere. No, Thanos la butta di sotto. Perdere. Non è che la lascia lì e se ne va. Dice perdere. Non è vero dai. Dice perdere. Se te vuoi trovare il pelo nel luogo per cosa si fa... Ma non è per un luogo di caso così. No, è una scena. Altra. Nel primo Thanos deve andare con le li o no. Perché è l'unica che ama. Già non torna il fatto che se io ti faccio buttare di sotto non è vero amore perché io la mia moglie non la butto di sotto e mi ci butto io. Quindi non l'ama. Ma che devi perdere? No, no, non l'ama. Cioè la base è che non l'ama perché una che ama non la butti di sotto. È la base. Che è scritto talmente di merda. Sì. Quindi non te la dà la pietra. Dovrebbe essere un trabocchetto. Cioè è scritto di merda. Io la butto di sotto quindi non ti do un cazzo idiota e te mi dovrei dire di no a costo di perdere la vita e goti la pietra. Così funzionava quel cazzo di trabocchetto. Così che cazzo è mi inculata. Ma io sono quello che amo e volo di sotto. C'è questo. Non ho capito che... Quindi non mi ama ma volato di sotto. Ma l'idea è che tu... No, l'idea non esiste perché se te ami una persona ti sacrifici per lei fatelo dirgli da chi ama la sua moglie. Se io devo buttarmi nel foo buttaccia la mia moglie mi ci butto io. Quindi a quel punto il senso che si vuol dare che Thanos ami lei non è vero. Perché è il modo di amare di Thanos che non è l'amore vero, universale e che quindi non vale un cazzo per quella pietra. Ma non stiamo parlando di quel film di merda. Torniamo all'omoragno. Perché è ancora apito perché lei, vedo maniera, si è buttata di tioffo e ha funzionato la pietra. Te lo rio. E poi non si affisce perché un l'anno salvata. Quel cretino di Capitano Ameri è tornato indietro nel tempo. L'unico modo per ripidire la pietra è che non fa casca a lei. Ti ridò la pietra e lei torna su se no non torna nulla. Poi torna un cazzo perché Capitano Ameri rimane lì a giocare a carte con quest'acqua. E poi non si sa come nel solito universo è sulla panchina con lo scudo e ancora non si è capito quindi chi è che ha combattuto Thanos. Perché lui era con la suferdoria nel solito universo a farlo. Che nessuno la risvega. Stomoragno. Si sono creati l'unico. No ma è tutto diventa il casino perché se capite questi uomini ragni ultimi che hanno fatto c'è tutto un casino perché si sono talmente incasinate con quel casino lì. Io la cerco. Non la buttate fuori c'è multiverso. Sì ho capito c'è multiverso è come se è così c'è multiverso. La vale tutto. E non è che vale tutto se c'è multiverso. No ma però devi vederlo prima di capire. Adesso non voglio fare spoiler perché è uscito ieri. Cosa devo capire prima di vedere dell'uomo ragno? Cioè che dire ci saranno gli altri uomo ragno e le arrivano dall'altro universi. Lui dovrà fare qualcosa per salvare tutti e salverà tutti. E salverà tutti i uomini che muoiano tutti i uomini ragni. Ma vuoi te la scrivo ora? Senza averlo visto vuoi che se ne discuta mezz'ora e te lo discuta. No 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 c'è bisogno. Fede provo a scrivere la sceneggiatura. Esatto provo a fare. Allora diciamo sì l'uomo ragno e l'ho letto Mowland. Che vive nella società sempre sfavato perché Tyrom è morto. Non si capisce perché a un bimbo di 15 anni l'ha dato l'occhiale per distruggere l'universo. Però l'ha dato. Non so se è sempre occhialato spero di no. No no no. Perché quello era nostro termine di uomini e la elimino. E ci avrà il giramento di olioni e farà qualcosa che fa un danno. Sto danno scoppierà molto in universo. Arriveranno tutti i uomini ragno e a quel punto ci sarà qualcosa da fare di grosso. Anche se il soggetto resta una cosa, una puttanata da fare. Tipo tipo? Spara spara. Ma sono curioso. La più grande stronzata che ti viene in mente non lo so. No non lo posso dire perché lo so cosa succede. Se no è già una stronzata veramente glielo dico alla gente. Ah no non fare spoiler. No questa lo so perché me l'ha detto tre giorni fa Dario Dè. Quella cosa lì. Si però non fare spoiler. No no non fa scattare una cosa. Quella non la posso dire che posso dire di averla scazzata. Quindi non vale dirla. Però è come vuoi che l'abbiamo scritto. Arrivano tutti i uomini ragno. Lì si metteranno un po' insieme. E poi saranno come mai l'omoragno te per due fa cinque. No fa sei. Vabbè ragione te. Tutti contro. Ci sarà qualcosa da fa' scavano a bue e metteci una pietra. Fa' tutti in balletto uranio. Che cazzo ne so. La solita azzata e si inventano. E dove si servano. Si servano tutti. Non ci vedono nemmeno che forse si feriscono un paio. E ti fanno credere che uno è morto. Invece non è morto. Cioè facciamo sì. Tanto che poi ci saranno sedici post titoli. Dove tutto quello che hai visto durante il film non vale più un cazzo. Come tutti i film Marvel. Come no. Quello no eh. E guardi tre ore di film e tutti i film Marvel. Ti metti lì e poi alla fine. Ma come? Ho guardato tre ore e il cattivo è vivo. Lei è morta. Per l'altro non l'ha riaccattato. Ma che cazzo hanno fatto tutto il film? E tutte le volte fai. Ok vabbè. E Misery non deve morire. Ho capito perché lei si era incazzata. Vi ricordate Misery anche il libro no? Lei becca il suo scrittore preferito che ha scritto libri su Misery. Che ha ammazzato Misery. Compra l'ultimo lei e vede che Misery muore. E quindi lo. Lo obbliga a scrivere. Io trovo che nelle Marvel ti facciano scrivere così i film. Cioè ti leghino a letto. Ti leghino a letto. E poi non fanno come nel film che c'è solo il mazzuolo. Ma anche con la sega. Come scrivi una cosa che vada fuori da ogni canone. Cioè che non estri in quello che dicono loro. È la prima mazzolata sul piede. Troppo. E allora cancelli. E riparti scrivendo. Quando ti porti un soggetto secondo me alla Marvel su Lomo Ragno. E supera le otto righe. Io credo che già quello che lo legge non credo arrivi a otto righe. Ah proprio così. No perché secondo me non sono più ormai produttori. Questi sono product management. Sono PR. Guardano semplicemente se all'interno della storiella c'è tutto quello che deve guardare al fan. Non gliene frega un cazzo di quello che ama il cinema. E è strano fare cinema in questa maniera. Comunque. È la verità dei fatti. Purtroppo si è visto per meno per me. Tranne i rari casi. Che anche l'Uomo Ragno li sono diventati sempre più per quello che chiedevano. E diventa terribile. Cioè il regista alla libertà di Venezueli li pare. E io mi ricordo ancora quando fecero vedere il costume dell'Uomo Ragno. E del primo Sembremi. E fecero vedere il costume del Goblin. Io non ho mai visto tanti urli. Il costume del Goblin fa c'è e quello è una merda. E quello fa di lì e quello è una merda. No no dai una sega. Erano tutti fan del fumetto. Non di Sembremi. Quando ho visto il film ho fatto il fumetto. È meraviglioso. Che cazzo volete? Assolutamente. Quello sono un perfetto. No ma è Sembremi. Quando si discute di Sembremi come produttore è poveraccio e modesto. Ma Sembremi regista è indiscutibile. Quindi c'è il primo Uomo Ragno nonostante alcune cose più violente che lui ce la mette. E quindi qualche scena tagliata a livello non tanto narrativo. Perché poi la sceneggiatore mi parete di Coep. Non è sua. Quindi a livello visivo gli hanno cambiato determinate inquadrature. Perché se no c'era la scena che lui ammazzava il primo. Che viste volai sotto. Sì sì quello che uccideva lo zio. Quello lo squartinava proprio. Cioè nell'idea di Sembremi lo doveva strappare. Comunque stiamo parlando del registrato. Di fare strappargli un braccio e volarlo dalla finestra e lo spappolato sotto. Cioè lui aveva fatto queste scene qui. Come storyboard. Sì come immaginazione. L'idea sua. C'era dire però che comunque. Che l'hanno censurato perché. In cui gli Spider gli avevano lasciato un paio di polare. No molto libero. Però comunque già la Horror Hospital. Quella di Octopus nel 2. No ma quello. Ma anche nel primo Remi c'è in realtà. Sì sì. A livello tecnico è suo. Ma anche a livello narrativo. Perché comunque. Ripeto. Tommy De Gea era perfetto. E la faccia mi è Bruce Campbell. Cioè lui ha preso un altro che potesse essere un mimo. Non ha preso. Ha preso un attore di fisico. Un attore di faccia. E è perfetto perché. La muove. La muove. Come se la muove. Se te che non la vedi muove. Perché ti hai garbato molland. E quindi non siamo al punto di prima. Se ti garba un pesce adesso. Non ti puoi garbare. Sono data al forno. Io sono a suola. Se ti piace il merluzzino. Non puoi garire il cacciucco. Ma dai. Quella è la verità. Ma non mi fa. Ma fa delle focce. Cristo. Non è vero. Mangia il riso al zafferano. Lascia il cacciucco a noi. Dammi l'idea. Le. No no. Guarda no. Il riso al zafferano si fa da solo. Ed è Tom Holland. Cioè tanto l'hanno studiato qualcosa. E' un po' più complicato. Il cacciucco è Tommy McGuire. Ci vuole tanto tempo per farlo recitare. Ma te guarda. Ma guarda. Ma c'è stato. Ma c'è stato giaccio a curo. Mi date la filmografia di Tommy McGuire. Poi mi viene a dire. E si mettono accanto. Ma sì. Ma cosa. Ma come sì. Ma in Pleasantville. L'hai visto. Ma c'è sempre stato. Ma l'hai visto in Pleasantville. Ma cosa c'è da questa faccia. Passa dal bianco e nero al colore. Dall'essere diologia. Ma non l'ho fatto a Tommy McGuire. Lo fai film. Che caccia c'entra quello che fai. Non sarebbe torneganza. E che torneganza in radio in bianco e nero. Ma che c'entra. Ma come no. Riesci a recitare col bianco e nero. Mica tutti gli attori sono buone a recitare in bianco e nero. Ma cosa c'entra. Scusami. Ma come cosa c'entra. Ma no. Ma usi un altro tipo di movimenti in colore. Ma non è muto. Cosa c'entra. Non hai mai girato un cazzo in vita tua. Ma ovviamente no. Non sono regista. E allora si vede che non hai idea di come deve recitare un attore davanti a macchina presa. In bianco e nero ha colori. Reciti in maniera diversa come sguardi. Come movimenti. Il colore è un'altra cosa. Profondità di campo. Ma come no. È tutto un'altra cosa il bianco e nero. Il colore ti dà la possibilità. Anche solo con la luce rossa. Di dargli qualcosa nel viso. Per cui non devi nemmeno recitare. Il bianco e nero deve sforzare la recitazione. Non è solo te perché i film in bianco e nero non muti e basta sono più sforzati. Perché il colore se io voglio far vedere che ti hai paura. Faccio accendere una luce rossa alla Mario Bava su un taglio d'occhi senza espressione. Capite che c'è la paura. Questo è proprio una recitazione. E in bianco e nero nel cazzo fai. Io non l'ho vista. No, l'hai vista perché eri troppo piccino. Io l'ho vista al cinema e te ne eri nato. No, no. È del 97. Eh vabbè io sono dell'88. E quanto c'avevi? Dove anni? Eh io l'ho vista a 25. E quindi tutti al cinema sinistra ammazza il film e questo è un grande attore. Tutti. Io non sono d'accordo su Meguiar. Comunque. Che succede? Filmografia. Ah filmografia. Vediamo. E Brothers lo butti via. Il Grande Gatsby lo butti via. Porca troia sì ma no. Il Grande Gatsby no. Ti scongiuro. E ti garbari più Tom Holland e L'Homo Ragno. Ma il Grande Gatsby è un film che ha delle robe dentro. Ma è un film. Hai detto già una parola. È un film. Cioè invece noi si stanno parlando di una osa che fanno quattro rincoglioniti. Ma scusami. Pensando allora come si mette dentro una stanza. Ascoltami. Come si mette dentro una stanza un miliardo di coglioni che li garba L'Homo Ragno. Ho un'idea. Buttacene cinque L'Homo Ragno. Perché così quello che gli sta sul cazzo quello di Meguiar va bene quello di Holland. Velo va bene quello. Velo va bene quello. E così. Sono fanculo. Non si è fatto una fatia di nulla. Si è preso quattro scemi. Si sono buttati lì così. C'è l'attore garba lui. L'attore garba lei. Per le fieci in quattro diversi. Si. Per il fan l'attore. Tutti i L'Homo Ragno lì che sono esistiti buttali lì. Così il fan di vello più nero vello schizzato. Vella strisce. Ma hanno tutti a vedere sto cazzo di film. Però c'è una cosa che non capisco. Scusa. Ci si chiede come mai è pieno. Come mai è pieno. È pieno. Hanno quintupliato L'Homo Ragno. Hanno quintupliato. È come se domani fanno Superman. Il Mega Universus. Ci sono 12 Superman. Uno del 40. Uno del 60. Vedrai che in casa hai più. Perché trovi sempre il fissato. Lo fanno apposta. Lo vedi che io non sono un fan. Te sei fan dell'Homo Ragno. E c'è determinate cose che vuoi. Come conosci te fan dell'Homo Ragno? Io conosco altri fan dell'Homo Ragno. Che detestano invece quella cosa lì. E chiamano un'altra cosa. E conosco altri fan dell'Homo Ragno. Allora cosa succede a questo punto? Siccome i fan non siete d'accordo nemmeno voi. Vi mettano d'accordo loro. Fanno un film di merda dove c'è tutto quello che volete. L'importante tanto è che ci sia quello che volete. Non che sia un bel film. Però scusa. Si torna a bomba. A te giustamente dà un fastidio dell'incongruenza. Ma perché nel grande Gatsby ci sono delle cose che non ti dà c'è? Perché anche lì ci sono incongruenza. Ma mi ho detto è un grande film. Io ti ho detto che è bravissimo lui. E che è bravissimo lui. Del grande Gatsby. Ma lui è bravissimo sempre secondo me. È bravissimo l'Homo Ragno 1, 2, 3, in Pleasantville. È bravissimo sempre. È un bravo attore. Il fasso che il poveraccio abbia dei problemi con la droga. Ma povero Cristo. È un problema suo. Ma lui è un attore nato come un attore di livello. Ma stai sempre la stessa faccia girata così. A quella pare a te o... Ma che non pare a me? Ma non sono l'unico a dirlo. Dai! Ma quegli altri che non sono sono i soliti come te fan dell'Homo Ragno. Ma lascia stare l'Homo Ragno. Ma non è solo l'Homo Ragno. Ma non hai visto un cazzo dei suoi film? Ma come no? Allora se l'hai visto in Gatsby raccita bene è oggettivo. In Pleasantville è bravino che raccita bene. Far film è sempre in prima... E come no? E cambia dal colore al bianco e nero è come se cambia. Visto che è il film, se tu l'avessi visto narrativamente... Ma l'ho visto il film. Sicuramente se ti riordi cambia col colore della musica. Ricordo, l'albero che prende fuoco. Non c'è un cazzo l'albero, si parla dell'attore. Sì, hai capito? Ti ripeto, il film va in bianco e nero e diventa a colori. E va bene, sì. Ti sei reso conto di come il recita è completamente diverso quando è a colori e quando è in bianco e nero? Perché la narrazione di quel film presuppone che quando c'è il bianco e nero la recitazione sia tototono, la musica sia tototono e poi cambiare per diventare a colori. Lì si vede la grandezza di un attore. Parti in un modo e finisce in un altro. Questi che dici te Garfield c'ha il ciuffo e fa così tutto il film. Tom Holland invece non fa nemmeno così perché c'è una faccia la vita a scemo. Garfield non è male. Ma Ma Maixson Ridge fa talmente capo per i notti e Garfield. Non fa tanto. Cosa ne vè fa? Garfield ogni volta che arriva lì sono il primo obiettore. Sparatele, speriamo muoia. In Silence non è stato bravo Garfield. Ma in Silence è bellissimo. Allora, con Marti Scorsese sono bravo anch'io. Allora, capito? Ma ascusami. Non è chiaro, no. Funziona così. Ma dai, no. Funziona così. Come funziona così. No, come funziona. E infatti Malcolm McDowell è stato bravo come ha lavorato con Kubrick. E se mai fatto un film che è così bravo ma Arancia Meccanica nemmeno una volta in vita sua. E un'altra volta metti dietro l'autore e io invece metto lì la politica d'autore e la metto davanti. E io dico che il regista vale centumila volte più di tutto il resto. Ma sicuramente. E quindi se Scorsese piglia Garfield lo fa recitare. Se Kubrick piglia Tom Cruise lo fa recitare. Se lo piglia Michael Mann lo fa recitare a Tom Cruise. Però sicuramente. Se lo piglia e Tony Scott è una merda. Basta. Perché ogni tanto è uno che li garbacirà tutto e non è uno che puntava a fare recitare gli attori. Basta. È inutile. Garfield è uno che è bellino e corciuffo. Basta. Secondo me è un bravo attore. Ma non è un bravo attore e Peter Parker non può essere bello. Ganza è figura. Perché se no che cazzo di Peter Parker è? In Ultimate Spider non è così. Ma che cazzo me ne frega di Ultimate Spider? Ma scusami, ma tu dici una seconda di con l'altra. Non torna. Ma cosa? Tu dici Spadere non basta. Ma cosa? Lui è già ganso, è bello, c'ha le figlie prima. Che cazzo gliene frega di diventare l'uomo ragno? C'è tutta la logica dell'uomo ragno che ci sta sotto, il superomismo che lui vuole negare. C'è l'antifascismo vacilare. Perché Peter Parker diventa bello dopo. È sempre uguale. Cosa? E quello di Remi diventa bello dopo. Cosa è uguale un cazzo. La sera prima c'è il fisio rintortato, si apre la mattina dopo, c'è il fisio parale. Ma non te l'ha mai mostrato il fisio intortato? Ma come non si è mai visto il fisio intortato? Si vede lui la sera prima e si guarda e il giorno dopo c'è il fisio. Chiaramente ha fatto passare tre mesi e gli ha fatto fare il fisio. È cinema. Ma prima è intortato secco che non ce la fa andare dietro l'autobus. La mattina fa. Poi come me sono più l'arto. Si guarda anche l'uccello, non so se te lo ricordi. Sì, me lo ricordo. Guarda la favore. Non è un caso che gli parte la ragnatela. Sì, sì, quella è bellissima. Ma quello fa il cinema. Ma quello è il cinema. Mi racconti un personaggio che mi fa capire da un'inquadratura di uno specchio. Da una spruzzata che lui ha avuto un cambiamento quasi da adolescente a uomo puro. E quindi in un certo senso funziona. Quell'altro perché lui era un fallito per non becca l'autobus. Garfield era già bello e corciuffo. Non c'è catarsi, non c'è cambiamento nel personaggio. Che senso ha lui? Perché se di là c'era proprio questa lotta dell'antisuperonismo, fammi finire, lui prendeva i suoi poteri, ne era felice, ma non così tanto. Perché poi in realtà il suo essere stato sempre bullizzato, il bello del primo moragno è che lui prendendo queste responsabilità si mette dall'idea di dire io, dopo che ha ammazzato uno, anche se non volendo, in maniera da giustiziaria della notte, quindi in maniera fascista o reazionaria a livello di giustizia, cioè lo prende, lo vuole di giustizia. Infatti lui si rimane colpito da questo suo atteggiamento che vuole eliminare, perché non vuole essere un fascista. Non vuole essere un assassino più che altro. No, più che altro non vuole essere un fascista. Ma io non credo che si abbia pensato che non voglia essere un fascista. No, 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 invece è un atteggiamento diverso. Invece Batman vuole essere un fascista, è diverso. Non credo. Cioè Batman vuole nascondersi dietro al fatto, ed è bello quel personaggio, dietro al fatto io non ammazzo nessuno. Però faccio il fascistamento e il cazzo che mi pare per la strada uguale. Faccio il giustiziare lo stesso. Invece l'uomo ragno perché è di quartiere? Perché il bello è quello. Che l'uomo ragni è più uno che salva quella dalla spesa o sé e che poi gli capita la cosa grossa. Sì. E il bello è questo. Questo fa in remi. Da quell'altro è subito la cosa grossa. Cioè non c'è nessun tipo di movimento, nessuna catarsi, nessun, il personaggio non te ne frega un cazzo. C'è questo guappetto che finisce, che gli muore per l'altro e lui dice, quello di Garfield, a quell'altro tranquillo la fia, non la vedrò mai più. Due minuti dopo gli fa l'occhiolino in classe e fa ora che non c'è babbo di trombo tre mesi. Cioè ma... Ma l'avete fatto chiunque, umano! No, no, un supereroe. Ma cosa no? Ma 16 anni è la figa, subito. Ma cazzo urli, ma non c'è da urlare per una stronzata così. Ma cosa urli? Ma cosa cazzo dici? Ma te sei l'uomo ragno. Uno di 16 anni, sì. Ma come state le fregative di da messaggio al pubblico? Stai facendo un film per ragazzi dove c'è l'uomo ragno, è un supereroe? Fa una cazzo, un supereroe. Fa una promessa in punto di morte all'uomo che comunque è l'uomo quasi che l'ha creato. Cioè lì accanto cazzo la soffigliola ti dice, per favore soffirà, te sì, grazie. E dopo te la trombi, sei un uomo di merda. Ma che supereroe è? Ma non è un ragazzino, non torna io. A 17 anni era un ragazzino, era al 1980. Questo nel 2010 è ragazzino, nel 2020. A 17 anni avevano il fumo alle stiacciate, trombano, mandano 12, a 17 sono già sulla luna. Ma calici? Il succo è che quello è l'uomo ragno, non è il ragazzino. E l'uomo ragno, in quanto supereroe, da grandi superpoteri derivano grandi responsabilità. La sua più grande responsabilità, il normale su fa è morto, sembra la tromba. Questo è il succo di un film. Ma come si fa a guardare un film così che poi c'è il cattivo con l'uomo ragno e scivola? Che lo deve agguantare? L'uomo ragno e scivola, salvato dal mezzo stronzolo di dinotauro fatto al computer di merda. L'uomo ragno, scivola. Un sa salì su palazzi. Ma era ferito. Ma era ferito, uguale. Ma scusa, no, non è vero anche lì, non sai com'è. Quante volte hai visto un ragno che ha perso un zampo, è ferito e fa cazzi? Suo ragno, gliene frega un cazzo, è ferito l'uomo ragno. Ma non è un ragno, è l'uomo ragno. Eh ma se l'uomo ragno, ma se sei ferito, anche se in reme era ferito. Porca troia, nel primo di se in reme lui gli spara 600 bombe e poi gli fa un culo così. E l'uomo ragno non sente in cazzo se si deve ferire per tre schiaffi ma ha preso un testino. Ma attenzione, anche con il reme quando era ferito comunque... Eh comunque, si, strascicava abbastanza però andava di morto su tetti e ha fatto un culo sì al cattivo. Non si è dovuto far salvare. Io mi pare di aver visto qualcuno lo piglia per il braccio o scusa stare a volare di sotto nell'uomo ragno di reme. Mi dispiace. La cosa più trash del mondo in un film sull'uomo ragno è far salvare l'uomo ragno da un cattivo che non sta su un tetto. Cioè farlo salvare in un'altra maniera che gli sta per passare un autobus e solo per fare questo altro diverso dall'uomo ragno e fa di così. Perché veramente sembra... Sembra per il fatto che il film... Ragazzi è Silvestro è Silvestro e Piccione ve la voglio dire. Senti, ma che è? Ma che film è? Il primo uomo ragno è in gran fibre perché il reme tira fuori quello che si può tirare fuori da una macchina da presa e ci fa, vent'anni fa, volare in mezzo a palazzi. Poi c'è anche la trovata quella delle ragnatelle che sono organiche che a me piace tantissimo. Quella è la migliore è l'unica è l'unica che puoi fare nel 2020 è l'unica credibile perché non è più credibile che uno si costruisca una macchinetta non è credibile perché io mi devo buttare da un palazzo all'altro e mi devo fidare una macchinetta mi butterei un palazzo all'altra macchinetta in basso a 600 metri ma così. No, devi renderlo credibile a chi guarda il fan del fumetto vuole la macchinetta perché è rimasto nel 63 che poteva andare bene la macchinetta fantascientica io preferisco l'organico ma l'organico è no, è la base senza è ridicolo perché è proprio una questione di non dipendere più da no è come lui non è Batman cosa che hanno trasformato sempre di più perché è Iron Man lui non è Batman non è un costume super figura che spara la roba e che quindi deve affidarsi a oggetti che ha creato lui è l'uomo ragno lui si affida nel sesto senso al movimento alla velocità alla forza e tutto il resto e alla ragnatela non si può quindi ormai nel 2020 che siamo ben negli anni 2000 diciamo che siamo ben avvezzi a cos'è la tecnologia a poter davvero utilizzare una tecnologia che se fai si rompe e involi avverso ma si sta scherzando la cosa bella invece è che l'uomo ragno nel primo Spider-Man cambia completamente la fisionomia della persona è anche metaforico comunque è metaforico ma è anche molto più bello come cinema perché non ho bisogno di far vedere oh non c'ho più c'era la scena della messa giù oh non c'ho più un c'ho più liquido sono d'accordissimo ma si ma se l'uomo ragno ma come cazzo fai ma come ma come te l'hanno scritto guarda ridai per costume piglia vella accanto a te danna a lui vienevi il ragno mor di lui perché questo non ha capito una sega non sa camminare su palazzi non sa camminare su palazzi non sa camminare su palazzi l'uomo ragno 1 Spider-Man dopo la prima prova che si butta dal primo palazzo in 3 minuti vola perché c'ha l'istinto del ragno non gliene frega un cazzo questa metafirma ancora la scarapazzo perché devono far vedere perché siccome Garfield è troppo bello troppo canzo troppo figo devono far vedere che almeno vola un po' da palazzi perché sennò questo moragno fa tutto bene cioè ti ripeto siamo in un film Spider-Man 1 dove si parla di un ragazzo che cresce il cambiamento viene attraverso una tuta una tuta che lo porta a scoprire quanto il potere e poi il discorso il nostro Dario è fissato di una guy che fa fisso anche su su robot e quando guidi Goldre con Mazinga può essere dio demonete può distruggere tutto e lui ha questo in mano ha questo potere lui può benissimo dire ora è mia la città non mi ferma nessuno quando ammazza quello si rende conto di quello che potrebbe essere e il bello è quello ha una catarsi e quindi Top of Mazinga alla grande la trasforma in tristezza per tutto il film e poi nel 2 ancora di più con quel finale magnifico dove so che sembra veramente un film di Orson Welles con il carrello e sale su e tutti gli ombrelli e lui che li fa la Fiat ti vuole nel culo cioè ragazzi il primo dei Lomoragni di Remy finisce coltivato nel culo perché sono guarda lì quanta gente morta l'aziondo finisce con te lo metto al culo e mi devi dire qual è la differenza fra uno uno c'ha un messaggio no no uno c'ha una forma e una sostanza perfetta uno c'ha una forma e fa cazzi sua che è quello dei 4 giorni non sa girare cioè le scene d'azione proprio sembra Beverly Hills il telefilm infatti lui girava commediole d'amore è buono per farle commediole d'amore quando gira le scene d'azione si vede che è chiaramente una seconda unità lo sai da cosa si vede nei miei 400 miliardi di film che ho visto non ha alcuna alcuna momento in cui riconosci niente è girata da una seconda unità prendi Alex Van Der Witt una balsiasi che gira le scene d'azione e la fatti gira un altro ma si vede perché non hanno alcun valore alcuna potenza non c'è ma allora non c'è è una scena che mi ricordo degli altri di Spider il primo è in grande film poi c'ha delle debolezze perché sono dovute dal fatto che ha dovuto stare dietro a determinate cose quindi per uno anche come me e per tutti quelli anche magari che non conoscono Moragno però è chiaro che i primi 40 minuti perché non lo moragna un po' pur essendo molto bello perché vedi la costruzione come nasce e tutto però si che fai dai muoio zio dai metti la tuta dai fai il resting però ad esempio secondo me ha scritto è stato scritto benissimo il 2 è un'altra categoria è stato scritto benissimo Norman Osborn tanto è vero che il personaggio lascia stare la qualità del film però il personaggio funziona ancora oggi mi ha messo lì così in quello nuovo William Dafoe no no ma il personaggio guarda io ti dico secondo me Goblin è stato uno dei migliori cattivi che hanno messo nei film dell'uomo nei film degli ultimi i migliori cattivi dell'uomo sono quelli di Saint Bremi gli altri fanno tutti schifo fanno ridere cioè se si pensa allora se si pensa all'ultimo non ci vogliono nemmeno pensare quello prima c'era l'altro imbecille che ha distrutto Venezia e non ne fregano uno a nessuno misterio misterio che non era manco misterio bello cattivo interessante faceva cala la merda guardiamo l'amazing elettro lì con il riportone per favore in quell'altro invece c'è il coglione lì che diventa dinosauro che è roba che nemmeno nemmeno le tartarughe ninja e poi mi pare un po' di aver capito che nel primo inerzio poi c'è Alfred Molina e Will and Dafoe ma Keaton cosa ne pensi della voltoglio dell'on cam ma poverino ma è anche la scena in macchina no ma non scherzo ma è talmente brutto per film la scena in macchina viene giù l'universo il cattivo diventa attivo perché è il capo di una ditta che gli levano al lavoro ragazzi ma non si può le vedere ma non si può le vedere ma dove ha le qualità così scientifiche per sapere usare il materiale alieno con cazzo ma cosa ne cazzo ne sa lui ma cosa cazzo ne sa che non ci capiscono un cazzo gli scienziati dell'MSU ci capisce lui cioè c'è stato Tony Stark e quell'altro stronzolo che con una pietra ci hanno messo 27 firme a capire come ragione adesso trova pezzi di roba e ci ostruisce le cose lui ma chi è ma se ero si intelligente e così figure da costruire quella cosa lì e avere il potere di quella cosa lì che non voglio sputtanare a tutti che magari non l'hanno visto c'è quella forza lì e vai a far capocantiere c'è un sei a lavorare per una qualsiasi ditta miliardaria come ingegnere capo per inventare le armi a 60 miliardi al mese no sei a frontiere di Vattro Stronzi ma la ne va la sporcizia levata a New York dopo hanno attaccato l'avieni un t'hanno chiamato per aiutare chiamiamolo un ingegnere o si costruisce l'aria contro gli alieni no chiamiamolo per ripulire lo sapele è che quando si incazza perché boi ci fanno ripulire ma hanno levato l'apparto sulla riballa roba e ora mi incazzo ne faccio vedere io con la roba e trovo avanzo ne fa un culo sì 10 anni dopo ne fa un culo sì ma com'è possibile scrivere una stronzata del genere com'è possibile che è come si può credere è come se ci avessero fatto vedere che il dottor ottobus in un ragno 2 prima fa lo spazzino ma ciò non andava a fare la presentazione del lancio all'uraneo ma siamo impazziti ma come cazzo li scrive ma non era lui a costruirle ma non vuol dire un cazzo cioè sei un capo al cantiere ma dove lo trovi ma come cosa vuol dire ma ti porti da capo i cantieri ma da un elevalis le sporcizie ai mattoni mi devi dire come trova un ingegnere meganucleare che ne ostruisce un'armatura come quella lì con i pezzi alieni che sa un cazzo nemmeno me toccarli ma di cosa si sta parlando si sta discutendo di puttanate quel film è scritto a cazzo e il povero Michael Keaton avrà preso 10 milioni e giustamente è andato a far coglione a far pennuto ma il tre star fatto è che è uno dei cattivi più scemi del mondo ma no come no è un capo al cantiere ma cosa vuol dire ma come se vuol dire ma non è costruito non è che è genio ma non hai capito cosa ti voglio dire ma scusiamo a te se domani succede un danno grosso a Livorno vengono giù 20 palazzi non muore nessuno fortunatamente mettiamolo arriva al capo cantiere che c'ha 20 cose per ripulire oh bene ho preso l'appalto arriva come lì quello dello stato del comune fa no no quello a parte non ce l'hai più perché siccome testa di azzo testa in capo cantiere noi saremo scienziati visti visterebbero cose aliene quindi ci serve noi per le valle di Ulo perché te ci potresti farei danni o non ci farei mai danni infatti infatti avevano per il 20 ragionale valle di Ulo era un pazzo e quindi lui è così è come se te quindi arriva levate dai coglioni non sei più capo cantiere non mi fate più pulire a me i resti no vai ciao levati facci causa cioè se succede a Livorno che scoppia in quattro palazzi arriva uno ora si porta via tutto perché arriva poi velo dello stato e fa no guarda qui ora è dello stato perché bisogna vedere cosa è successo se ti deve levare di Ulo e lui dieci anni dopo costruisce le Gundam beh devono essere esplosi per delle no no chiaro che è semplicemente un modo per farti capire il discorso il discorso è che lui non è arrivato lì dicendo io sono utile alle conoscenze sono miliardi e sono scienziato lui arriva lì dicendo che il suo lavoro è quello di far il manovale il capo cantiere infatti non è lui a farlo ma non vuol dire un capo cantiere ma chi cazzo lo commissiona di dire oh tieni ti commissiono senza una lira perché ha detto ci avete fatto perdere tutto lui ha preso i pezzi li ha venduti si ha preso i pezzi li ha venduti ci ha fatto fallarmi i pezzi lui ma ti rendi conto che il capo cantiere se va da lui che gli fa oh ho rubato pezzi delle armi quello che vende le armi li spara in testa e se le porta via ti va nel culo ma come cazzo l'hai scritto dicono dissi anche loro che sono signori i garbar film perché è così un capo cantiere se va a dar mafioso e li porta pezzi guarda so c'ho i pezzi per costruire una armatura grazie lo studisco per me e conquisto la città e conquisto la città io come fai a sapere dove c'erano altri pezzi lui lo appendi per le dita dei piedi e inizi a tagliare il cazzo che noi abbiamo dopo tre sioni ti dice tutto e questi cattivi non sono più cattivi non sanno più fare una micca sono i cattivi più scemi del mondo sono capi cantiere non per il capo cantiere una sospensione mi dovevi fare che lui era uno scienziato che era stato mandato lì bastano due parole sono tutti scienziati sti cazzoni cattivi ma te per forza se combatti l'uomo ragno lo sei scienziato o sei scienziato o sei un alieno ma perché se no ti fa un culo così non ci puoi andare in capo cantiere con la cazzuola allora ti faccio il culo Kimping è un mafioso lo combattere ma Kimping non è vero che è un mafioso perché come abbiamo visto nel multiverso è un mafioso che se l'uomo ragno gli dà un cazzotto si rompe tutta l'ossa e non è un essere umano normale non è un essere umano normale è 5 metri largo 12 non è un essere umano è Andre the Giant no non è Andre the Giant Andre the Giant gli dà il cazzotto nel muso sveniva poverino questo vi piglia cazzotti nel muso tutte le porte e l'ho visto nemmeno lo schiori è un essere umano è un essere umano relativo dentro l'universo ha la testa grossa come l'uomo ragno come fa esso essere umano sarà alto 7 metri largo 12 è un essere umano che gli è venuto un attimino male è come il fantozio se mi ricordi di Vincent Donofrio è Vincent Donofrio eppure anche lui è ma Vincent Donofrio è un grande attore è un altro discorso ma cosa siete scusate ho capito ma io ti sto dicendo il simbolo classico è il testore pelato largo grosso sì no che è un entramm da 12 metri in alto sono riusciti a farlo umano forte che ti sfonda il buco del culo ma hanno dovuto comunque utilizzare solo nel cartone animato in pratica ma no anche nel multiverso ve lo bello del cartone animato sì perché c'è tutto un discorso intelligente sulla famiglia un discorso educativo per i bimbi è proprio un bel cartone amica come quella merda quella merda lì di Garfield che è diseducativo a livelli allucinanti ah se muore vicino a Diasa tua tromba di la figliola mi raccomando è un momento buono perché ora è triste la trombi Donofrio chiaramente prometti al babbo il contrario perché sei un supereroe è Batman è lo stesso Batman mentre muore Gordon scusa Gordon tranquillo la tua figliola non te la tocco poi vedi la figliola di Gordon il babbo è morto stasera al culo ti ci leggo con le Batmanette perché le Batmanette ma già è così è la stessa osa finisce Superman Wonder Woman stasera quanto sarebbe l'idio e poi non trombano mai invece in quelli di St. Remy sono molto cioè la cosa bella è che poi quelli di Garfield così vogliono facciare anche vedere che loro sono romanticoni ma a 17 anni si sfiorano le orecchie perché si danno il bacino così e invece in St. Remy giustamente ti fa vedere che lui viene lui spara una spermatozoata ma le spara sempre dalle braccia perché lui ogni volta che è eccitato gli sparte la roba lì quindi è chiaro che è voluto e quindi il sesso è pieno nei St. Remy pieno è allegorico però allegorico una minchia ma oddio non la vedi mai perché non è senso ma lo fanno non è problema il problema di Lemme Schuch che non si amisce se lo fanno beh no secondo te è solo una teoria è appena detto che gli vuole sfondare il culo no ma loro si svegliano la mattina e fanno buongiorno stanno insieme ma non è appena detto che gli vuole sfondare il culo a chi scusami ma è relativo non è mica allegorico che gli vuole sfondare il culo davvero e beh io penso di sì io sono abbastanza convinto di sì ma non lo so io so io so io so io so ma scusami ma ma ti fai guardi a cazzo si scusa ma a 17 anni ti amo ma se a 17 anni ti è morto vabbè mamma a giorni ma trombi il giorno dopo no se te il giorno ascolta mi cazzo della madonna sì è il giorno dopo a scuola il giorno dopo a scuola li fa l'occhiolino li ha detto a suo patto le ore prima non la cavo più non ci parlo più la metto a un periodo te stai parlando di un supereroe che è un supercazzone e vuoi aver ragione su cose che non potrebbe aver ragione ma ancora papa non si può aver ragione lui è bello e basta è incontestabile lui è figura già all'inizio è incostestabile lui non ha catarsi è incontestabile fai pezzi perché se non era per il cattivo quello servava due volte era morto al primo firme è incontestabile e è incontestabile che lui non dia niente del personaggio dell'omoragno che è tanto amato perché il senso di responsabilità il senso di che sto cazzo dai poteri deriva sto cazzo dai poteri deriva che mi trombo le meglio figlie della scuola che tristezza le firme di merda punto dopo che ho giurato in punto di morte porca troia no all'ospedale in punto di morte a uno non ti toccherò mai la figliola e tre ore dopo sei in classe o sì ma si sta a scherzare pareva andare al cinema Pollotto la spuntava rideva tutto il cinema dicendo che firme di merda a tutti poi garba a tutti quando scrivono su internet perché se scrive in firme di merda la gente si incazza e mi vengono dietro a rompere i coglioni ma il cinema faceva caccare a tutti i bimbetti gli tiravano la roba ma che omoragnolo di merda è tutti se non ti è perché l'hanno fatto un altro corbluone e poi levalo di ulo e sto vi perché fa stracà ormai anche che fanno perché fa cà è indubbiamente un persaggio ma il primo e il sonno fanno schifo uguale cioè sono due merde due merde indicibili che sprecano attori sprecano mezzi 150 milioni per far vedere un bluone col riporto Spider-Man 1 aveva il senso dell'eroe ti faceva finire con una che stavi male vedi che se ne va vedi l'omoragno e finisce che male e finisce che fai boia mi ha lasciato un senso di malinconia questo omoragno che bello ha funzionato perché mi ha dato l'idea dell'adolescenza mi ha riportato a quel momento mi ha dato l'idea della scuola mi ha dato l'idea non si perde mai di ritmo l'azione è piena è piena di effetti guarda che film mi ha fatto sembrini col due va oltre col tre in carta e poi mi trovo a me in Spider-Man e fai ma questo vieni poverino vado a rifare 400 giorni insieme e mantenono perché gli viene molto meglio non è mica colpa del regista cioè se teppi di un regista non capace a fare l'azione gli vuole far fare l'azione ripeto viene fuori quello che viene fuori cioè le scene girate campo contro campo con loro due che chiacchiano lo son fatte bene pare Beverly Hills o Merrill's Place e poi in più più scemo dell'universo che fa veramente schifo non c'è niente non c'è catarsi non c'è voglia il finale colui che di fare il sorrisino ti viene voglia dopo che hai visto Sembremi e fai oddio questo pazzo vi veramente ha detto a questo vi e gli fa così cioè vai dalla figlia e di lì io ti amo ti vorrei fare tutto risponderei il deretano ma ma ho promesso a babbo che non lo farei quindi stammi lontana perché? perché da grandi poteri di vivere in Italia va a finire al cazzo perché è così se no non lo chiami omoragno lo chiami testa rialzo e trova costume d'omoragno si veste o si ma non è e fa le figure di merda allora ci si riverte perché quella era una parodia allora ci si riverte è molto più bellino super hero allora è più bellino super hero di quella è meglio la parodia però c'è anche la idea che lui comunque c'è sempre questo dualismo tra lui che è un ragazzo e il fatto che ha la responsabilità a volte lui non riesce eh ma non riesce a avere la responsabilità ma non per il trombare per la sua violenza la responsabilità non è per il trombare perché è innamorato lo zio gli sta dicendo che ha innamorato ma si innamorato se sei davvero innamorato ti rispiego se sei all'amore al babbo è more more babbo sta a morì se sei innamorato di quella donna non menti a suo padre gli diresti in punto di morte non ce la faccio se non è più umano quella no non è umano perché lo stronzolo l'hai distrutto l'ultimo desiderio di un morto sei una merda allora gli dovevi dire no guarda mi dispiace io amo ti armento la tua figliola che non posso giurare ci provo no così si scrivano i film non si scrive la cazza di cane sì certo per fare la scena col taglio sì io sono supereroe la mattina dopo no 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 però lei ci ha già il cazzo in bocca e lui è già lì che fa ecco ho trovato il sistema vediamo di far morire qualche altro genitore ecco sì che si mi trovo tutta la scuola ma no intanto a lui che more lei che cazzo gli ne frega gli ha detto Sopan nel primo occhio more nel secondo se fa muore e per forza l'ha detto per testa di azza di Sopan non ci sta me l'ammazzano me l'ammazzano ho letto il fumetto me l'ammazzano ho visto la sceneggiatura del 2 me l'ammazzano doveva farlo Jim Jarmusch e fare clamorosamente il capolavoro che ha fatto con gli zomi che nessuno ha capito e che capisca un cazzo e quindi dovevano farlo farlo a Jim Jarmusch allora forse ci si rideva fatto così sono due film veramente 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 che se hai superato i 6 anni e l'età in cui non ti ciucci più lunghi dei piedi non fai così sul cazzetto per capire cos'è boba per tornare su film positivi invece Spider-Man 2 no Spider-Man 2 un grande film no non se ne è parato adesso andiamo però una cosa che volevo dire è bellissimo Spider-Man 2 più che altro io ho notato questa cosa qua che comunque i film di Remy piacciono o non piacciono sono quelli che sono rimasti veramente iconici beh perché sono film non so che sono rimasti iconici sbagli il termine sono rimasti cinema cioè il cinema se non è tale scompare e questi film della Marvel e del Cinematic Universe verranno solo ricordati per gli incassi mai per la qualità cinematografica mai perché anche il miglior film della Marvel che sono sicuramente quelli di Gunn di Guardiana Galassia Alastra Gunn no preferisco Guardiana Galassia 20 volte 20 volte quelli dico che sono veramente i migliori quelli potranno essere ricordati ma perché James Gunn è un regista e verrà ricordato e chi se lo ricorderà mai John Favreau chi cazzo se ne fega di John Favreau aveva iniziato bene con le commedie indipendenti e poi aveva fatto la dozzatura che era carina poi si è messo a fare tutta sta roba qui ma chi se lo ricorderà mai nessuno leggete qualche libro Anèche e altri che parlano di questi registi e ti diranno sempre Schumacher questi registi qui parla di Russo nell'ultimo libro quando gli chiedono qual è la differenza la differenza è che questa gente vi potrà tirare fuori anche un filmino che si vede ma non riuscirà mai a fare un grande film perché non gliene frega niente non è nell'interesse di questi registi in realtà fare arte fare in grandi film per cui essere ricordati questi prendono soldi li mettono in cassa qual è il prossimo soldi è in cassa non gliene frega un cazzo di quello che girano cioè fratelli Russo se io domani ho 30 milioni da dargli a loro per girarmi lo spot di videotromb me lo fanno non gliene frega un cazzo cioè è questo il problema sempre quando ha fatto L'Omoragno interessava non fare un film bello dell'Omoragno fare un bel film che ci sia L'Omoragno è relativo invece adesso si fa il film con L'Omoragno che non deve essere un bel film ma deve garbarare la gente deve vendere ed è un problema perché come dicono tutti i grandi registi io chiaramente si fa i film si fanno per noi e per lo spubblico perché non ho chi li guarda ma come dicono tutti i miei registi incluso Sam Remy da Scorsese a Kurosawa ti dicono sempre però il pubblico chi è? lo dovete spiegare perché il pubblico è talmente vario perché a quel punto io penso che il pubblico sia io chiaramente Sam Remy quando fa i suoi film fa il film per sé sperando che il pubblico lo capisca mi capito se voglio dire quindi che il pubblico sia più simile a Sam Remy di quanto Sam Remy possa sapere in quel senso mi capisci cosa intendo c'è un regista quando è un regista è un autore tende a fare il proprio film sperando che il gusto della gente in questo caso riesca a abbinarsi al suo ok invece quando gli fanno fare a Web lì il coso lui non gliene frega niente che gli arrivi qualcosa di suo non interessa che di suo gli arrivi un bella segno e un banca basta poi il film che gira non gliene frega un cazzo perché un regista serio quando legge quelle sceneggiature lì fa io questa cosa qui non la posso guarda che Amazon Spider-Man 1 e 2 non li salverebbe nemmeno Carpenter sono insalvabili sono scritti recitati scritti messi in scena proprio come scelta talmente all'opposto di Sam Remy proprio perché volevano fare proprio l'opposto che se fai all'opposto dei gran film riusciti non potrai altro che fare gran film di merda cioè non andare all'opposto di qualcosa che è riuscito cazzo mi è riuscito a fare due film bene sai cosa al prossimo faccio tutto diverso faccio un casino sono belli i film di Remy spostarsi semplicemente perché i diritti vanno di qui i diritti vanno di là poi perché Sam Remy giustamente si lo ha fatto cazzi su ha convinto evidentemente che lo facessero lavorare che dopo Spider-Man 2 e 3 avesse avuto quel successo per quale infatti si è fatto Drunk It Well e quell'altro film non l'hanno fatto più lavorare cioè il discorso è questo che ripeto io io non sono andato riuscito a vedere questo Amoragno perché c'è in nove sale a Livorno tutta a Livorno c'è solo Amoragno e Cremaccio meno male dove c'è tre persone ogni tre mesi perché non c'è nessuno Cremaccio non è neanche piaciuto perché se piace l'ultimo Amoragno un po' piace a tutti gli ultimi Eastwood cioè è una cosa e va contro l'altra io mi assicuro è così purtroppo se cambi i gusti della gente è negativo la gente di massa alla fine negativamente non andrà mai a vedere un film dove ne scoppia tutto ma non è questione vederlo io Eastwood lo vado a vedere non lo posso vedere a Livorno c'è un orario ti sto dicendo grazie all'Omoragno ora a Livorno c'è solo Amoragno io per almeno tre settimane non potrò vedere un film quando dicono ma fa buona la sala no fa buona a se stesso perché non alza gli incassi annuali per nulla rimane uguale fa soldi alla Marvel perché elimina io non vedo il film di cui parlavamo prima non ce n'è uno in sala devi vedere il film non è venuto neanche Sorrentino non può fare bene la sala non esiste perché quello lì se ne parlava prima di Lupi se lo dai anche mezzampini di Arcio non ce lo vanno a vedere quello non fa bene la sala il pubblico che va riportato in sala sono i non più giovani che non hanno più film da vedere perché è così perché Polanski gli ultimi tre film di Polanski sono venuti ad andare a Firenze a vedere il film normale Polanski ma te stai a Milano io non sono a Milano prima stai a Arnord a Arnord ragazzi c'è Vaini e Cinema e a Livorno c'è nulla c'è Amortissale ne ho uno poi gli altri sono tutti a 40-50 minuti non è così però è un'abitudine diversa l'idea è questa io Firenze non è 40-50 minuti andai a tornare 3 ore più il parcheggio più cosa so 4 ore di viaggio più 20 di parcheggio e 10 Firenze ha 120 km da Livorno anche se devi andare a Pisa comunque a vedere un film che comunque è mezz'ora di macchina di tanto però poi devi arrivare lì cerca il parcheggio ti parte in ora in più ti parte 10 euro di benzina poi uno mi mette vi lavorate vi mangia qualcosa cioè quello che qui vai a spendere 15 euro per andarlo a vedere a Pisa è un film che mi costa 50 in due e non è regolare che mi debba spostare e andare a Pisa e quando prima fino a 20 anni fa a Livorno andavo in centro c'erano Metropolitan Odeon Grande Aurora c'erano 18 tutti lì e guarda caso la gente andava di più al cinema era più vicina con queste multisala lontani perché i super giovani non vanno più anche al cinema arrivaci a Livorno è vero non c'era l'autobus ti rendete conto quindi arrivaci al The Space che è a 5-6 km fuori da Livorno o ti portano i genitori è tutto così ma se lo si provavano a farlo dieci anni fa dieci anni fa c'era l'autobus si provavano a farlo dieci anni fa perché ora ne frega in cazzo a nessuno ti ripeto ormai ci vanno solo gli estimatori del cinema al cinema e quelli che cercano il tre film l'anno quindi non danno una mano al cinema si dovrebbe riportare di nuovo gli appassionati al cinema ma se per appassionarmi al cinema l'ultima notte del grande Wright l'ho dovuto guardare Alfi Philippe perché Palli non l'hanno portato non è arrivato da me? due giorni mi pare un giorno un pomeriggio io meno male l'ho visto proiettato al TPD l'ho dovuto anche chiacchierare da me non sono arrivati quelli proprio d'autori tipo Annette Titan ma Titan non è un film d'autore cioè Titan è un film commerciale dovrebbe andare però non è stato così non si sta a parlare del cavallo di Torino ma non è stato così perché se nel solito periodo che esce Titan come a Livorno Titan non è venuto perché c'era in 64.412 sale o Space Jam o quel cazzo di Black Widow o Shang-Chi c'è sempre questi che occupano tutti non possiamo negare che le sale sono piene di merda e non prendono più film e buoni perché la gente va a vedere la merda e quando vai a vedere la merda non puoi dare la colpa alla gente la gente va a vedere quelle lì dai se te li insegni sempre di più video, vlog gente ne parla di andare a vedere film di Clint East vanno smossi ora non li smuove più nessuno e quindi la gente non va al cinema adesso secondo me è un film di Remy come Spider-Man 2 farebbe un flop enorme sai che secondo me no sì sì no io non credo no flop di pubblico non so di 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 dedicare al pubblico allora questo è il punto il punto è che ovviamente è un film Spider-Man 2 che ha proprio anche un modo di vedere quel tipo di di trasposizione completamente diverso però è cioè se tu pensi con il modo che hanno di vedere adesso i cinefumetti forse sì però se i cinefumetti ad un certo punto si sono evoluti in questo modo è anche no no però è involuti ok è evoluti che è peggio sì io non sono d'accordo ma ok ma come non sei d'accordo porca puttana Batman Disney Barton Batman Disney è disevolutore cinema da un grande autore a un pezzente cioè mi se mi permette è disevoluto ma non devoluto cioè i Divo ci avevano preso nel 70 sei ma per davvero we are not a man we are Divo ormai siamo più esseri umani siamo Divo perché non siamo cosa siamo se veramente per ora il cinema bello è questa merda della Marvel Cinematic Universe allora povero Bergman era meglio se andava a far carzolaio invece di romperci il coglione su film e vale lo stesso per il cinema commerciale povero Richard Donner povero John McTiernan povera gente che sapeva fare davvero il suo mestiere non fa più un cazzo per dare una mano sempre a questi lì io dico c'è spazio per tutti fatene uscire due di cinefumetti l'anno al massimo uno della Disney e della Marvel e lasciate libero il mondo di avere altro cinema e cazzo ne sono usciti in otto mesi quattro della Marvel hai rotto i coglioni più le serie più le serie più la Disney ha fatto uscire altri tre ci avete rotto il cazzo in otto mesi dieci film ma finirà anche questa ma non finisce sta andando avanti da vent'anni si si è vero e finirà anche questa e finirà anche questa quando io ho iniziata io avevo 27 anni e non ho 49 è vero finirà che io sono morto mi tolgherò i tuoi coglioni così tanto così tanto vorrei che finisse prima che io capisca vorrei tanto che finisse prima che io capisca ancora cos'è il cinema perché se finisce fra 28 anni che ho 69 anni e guardo film allora è un altro discorso secondo me è un fenomeno che comunque così non sono neanche dieci anni no no per me è dal primo Sam Remy che è scoppiato tutto eri troppo giovane non ti ricordi la botta non ti rendi oltre che il casino ma no troppo giovane per capire davvero io leggevo di tutto libri interviste ogni giorno una cosa per vedere questa cosa che era Sam Remy quello X-Men primo di Bryan Singer ma scherzi hanno fatto partire tutto è partito tutto di lì in poi c'è almeno 5 scene fumetti l'anno e che ancora non c'era la Marvel ancora non aveva intuito di diventare Marvel universi diciamo sì la Marvel entertainment e quindi era ancora spappolata in tre quella della Sony quella della Sony e quella della Disney e quindi ognuno faceva il suo film ormai è tutto insieme che chiaramente la Disney ha comprato tutto quindi ora possono fare questi multiversi e buttare tutto insieme però all'epoca era più difficile ti ripeto per me Spider-Man 2 che è il film da prendere in considerazione come il miglior spider mai fatto funziona soprattutto perché come dicono tutti quando c'è un gran cattivo il film funziona quasi sempre perché il cattivo attira l'attenzione più del buono perché comunque il problema dei supereroi che non è poi un problema come dice Tim Burton nel suo caso è che sono sfaccettati sono squalettati in quel modo e allora lui costruisce un personaggio molto meno bidimensionale nel cattivo perché è normale cioè Batman è così non lo puoi fare molto diverso è che quando hanno provato a farlo diverso pensa alla merda di Batman e Robin e Giorgio Clooney che fa le battute ma che Batman era quasi simile a quella della serie sì ma ti dico quello e quello prima sono proprio brutti perché sono tirati proprio al chip al chip film di merda due reti di due invece Spider-Man 2 ti dava questa sensazione Rami è riuscito quando non è L'uomo ragno forse è quello quando non è L'uomo ragno in scena ma c'è Peter Parker è un film realista cioè come fotografia come ambienti quando cammini per quella città ti sembra di essere lì cioè non c'è quasi mai una Postful Color che rompe i coglioni è proprio un film che poi arriva L'uomo ragno una cosa voglio dire allora io a me non ha mai fatto impazzire ma attenzione riconosco assolutamente il valore un film della madonna è una cosa mia perché io ti dico tu parli di effettivo io ho sempre visto Octopus come una sorta di quasi calco di goblin cioè ma deve esserlo e però aspetta 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 sono solo una cosa per quella che funziona sì però tipo a me una cosa che non ho mai fatto troppo impazzire il film di Remy è il non abbiamo mai avuto un cattivo che sia effettivamente cattivo ma è giusto ma perché perché è giusto perché non c'è nessun buono che è realmente perché non c'è nessun buono che è realmente buono perché l'uomo ragno nei film di Remy trattiene la sua violenza però la trattiene trattiene la sua violenza quindi lui è un cattivo l'altro la trattiene Octopus diventa cattivo perché li pigliano il comando qui sennò era solo non è cattivo è il suo bello è il suo bello è il duvice ma dopo che lo fai per tre film di fila ma va benissimo perché l'uomo ragno si deve scontrare con questi cattivi perché le si dà è un cattivo disumano per domanità il personaggio dell'uomo ragno che non gli è ripregato il cazzo non funziona più il dono uccidere non funziona il più ma è cattivo cazzo Octopus ma strappa mezza città porca putta ma lo fanno i tentacoli ma non vuol dire niente e che lo facciano i tentacoli il cattivo ma Norman Osborn era dottor Jacky Mr. Hyde no Norman Osborn era cattivo ma essere dottor Jacky e Mr. Hyde vuol dire avere doppia personalità uno è cattivo ma vieni sempre ma sì ma è come no no allora stai dicendo dottor Jacky Mr. Hyde non è cattivo Mr. Hyde come no è il cattivo della storia più importante ma non è Norman Osborn invece è Norman Osborn perché è uguale ma è la è il dottor Jacky Mr. Hyde cioè lì te stai sbagliando è una contraddizione in termini non è la parte cattiva è lui cioè se hai letto dottor Jacky Mr. Hyde sì sì non esiste una parte cattiva è una buona lui in quel modo tira fuori una parte cattiva ma che non è realmente una parte cattiva è lui il problema è che l'uomo ragno è cattivo te lo ridico quindi quando devi fare un film che funzioni devi fargli a lui tornare l'idea sempre di ciò di cui ha mancanza di cosa gli manca il padre quindi Osborn nel primo è un padre mancato il secondo è un altro padre mancato l'uomo di sabbia è un padre mancato è un padre mancato lui come padre ha sempre un padre da contrastare qualcuno che ha sempre qualcosa da difendere per il quale diventa cattivo e lì il bello ti dice che la società ti trasforma oltre all'indole non c'è più l'idea del cattivo del cazzo come nei film di Snyder che arriva su un cattivo del punto preso ogni film c'è questa ma è il suo bello perché è Sam Raimi se vuoi fare un film a Sam Raimi non farà mai un cattivo di merda a tutto tondo idiota che non ha alcuna giustificazione per la sua cattiveria quella è roba che serve a bimbettini idioti e vogliono vedere perché lo metto all'uomo blu ma che nell'Amazing sono tutti buoni appunto ma perché ti ripeto per l'uomo ragno serve un cattivo che non lo sia totalmente fino a un fondo se no il suo sento di giustizia non funzionerebbe perché non ha la forza vera di Batman non ha nemmeno la cultura non è un uomo di 40 anni è un ragazzino quindi serve qualcosa con il quale si possa anche rivedere all'inizio e interagire dopo come cattivo è la catarsi dei nemici e degli amici che fa diventare ottimo un film per quello che dico 300 fa schifo non c'è catarsi di nessun tipo al di là dell'estetica non esiste la catarsi dell'epica perché l'epica e siccome i film di supereroi sono epici di natura se no ci sarebbe di una catarsi dell'eroe e del nemico devono avere una catarsi deve avere un cambiamento deve arrivare a una condizione finale in cui te ti senti oh oppure no deve avere un qualcosa il film di Remy ti fanno sempre fare questo anche il 3 che è meno riuscito perché lì ci hanno fatto un filato ma non è colpa di Remy cioè no e qui lo dico sempre è colpa di Remy perché se l'ha voluto girare a te ah ma beh sì ok però tu devi pagare 50 milioni di danni allora fai prima gira quella e poi ti ne pago la penale vado in bancarola no più che altro pago la penale il suco era che se lasciava e si sa tutti Spider-Man 3 non li facevano fare né il tram di Duell né nemmeno quell'altro il discorso è un'altra scuola si sa si sa no era quello allora lui ha mollato il 4 perché ha fatto tanto ormai lavoro per la Disney e invece il 3 in realtà il 3 serviva per fargli fare il 4 in cui era libero in teoria e poi l'hanno gli era messo il 4 lui doveva fare il 3 e il 4 da sceneggiatura insieme nel 4 c'era Bruce Campbell come misterio e John Mark c'era uno tra John Mark era già vestito tra l'altro sì 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 c'è già una settimana erano partite le riprese 7 giorni di riprese e poi se premia ha usato il sistema di 7 giorni e si è fatto licenziare hanno detto che in realtà c'era il 40% del girato ma io questo sono le alzate perché evidentemente avevano fatto girare senza il premio sapesse il 35% da l'altro come hanno fatto per il boy però tornando un attimino al secondo 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 me non ha proprio difetti non ha punti deboli no 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 quello è proprio un film come film di genere di quel genere non ha un difetto il cattivo è perfetto il cattivo forse più bello insieme al pinguino che poi anche lì non è un vero cattivo e al grande Max Treyach di Batman sono i cattivi più belli vicini ai fumetti in assoluto mai fatti c'è anche il magneto di McKellen ma io preferisco due di X-Men e mi guarda di più il cattivo è molto meglio e il cattivo è più bello perché è il grande Brian Cox che è umano e quindi questa cosa è molto più interessante una cosa giusto per stemperare te l'hai letto io non l'ho letto avevo sentito solo questo estratto che c'è Muccino che ha fatto il libro autobiografico non so se non so se ti trigger non so se lo sai ma lui ha detto che praticamente lo avevano chiamato per girare il film su Wolverine Wolverine e Regine vabbè potete sì sì no no sicuro no è vero e praticamente lui aveva scritto questa cioè lui non sapeva cosa fosse Wolverine è arrivato lui non sa mai sentito aspetta è arrivato come si chiama come si chiama il suo il produttore vabbè il produttore te frega vabbè non mi ricordo chi è non era vabbè occhi piscoli quello della Lachiret sì occhi piscoli ma non mi ricordo chi era comunque è arrivato il produttore che è andato da lui in America che era a Los Angeles gli ha portato una pila di lui scrive così una pila di fumetti di Wolverine lui ha detto dopo che aveva letto quei fumetti avevo capito l'essenza del personaggio e ha letto che aveva scritto tutto il film che lui era lì per i servizi segreti russi e che c'era una scena bellissima in cui Wolverine combatteva contro un orso polare ok povero e poi ha detto e sono molto arrabbiato perché non mi hanno fatto fare il film perché alla Fox hanno detto non puoi farlo perché questo è un film da veri uomini tu fai film per il signore e lui era incazzato fa questi pezzi di merda incazzato nero ma è secondo me incazzato nero allora prima di tutto bisogna vedere quanto le parole di Muccino possono essere reali ma guarda però era l'epoca in cui girava con Will Smith può essere ho capito ma io non ti sto dicendo che non prendono in considerazione io hanno preso in considerazione Mainetti che poi ha rifiutato ma Mainetti ma Mainetti gira molto meglio di Muccino sicuramente però per dire all'epoca Muccino aveva un suo successo in America ma non è io io non so cosa dire te l'ho detto opposto io a quell'uomo lì vi farei dirige il traffio basta non posso dire altro e nemmeno in centri abitati troppo traffiati è proprio in provincia dove passa una macchina ogni volta l'ora perché se dirige il traffio ma fa film urlano tutti fa un casino quindi farebbe urlare tutto il traffio ma io lo penso cosa ne posso pensare io Muccino meno film fa al mondo meglio si sta cioè quindi per me bene non gliel'hanno fatto fare nel senso Muccino se non gli fanno fare più film io sono felice mi dispiace per lui però perlomeno mi evito tutti gli anni dovermi sobbire un film di Muccino e metterlo nel peggio tutti gli anni l'ultimo era gli anni più belli lo dissi gli anni più belli saranno avanti a te smettere di fare film quelli sono gli anni più belli no? tu firme di sicuro ho una domanda sull'universo espanso di Spider-Man cioè tipo Venom Venom 2 io ho visto qualcosa non credo nemmeno siano film quello l'ho visto però dai io ho arrivato in Venom 2 ho rimpianto Schumacher e dico tutto eh però guarda che cioè sono rimasto che quando ho visto il Venom allora al di là della storia che fa schifo al di là di Tom Hardy che pare il fratello scemo non si capisce da dove è uscito ma poi cos'è successo a Giannini nel doppiaggio cos'è successo a tutti in questo tema sì sì inoltre veramente cioè io io non è per dire Belly Jack Lemmon il grande Jack Lemmon e Tony Carter si spussevano la strana coppia poi si spussevano è la strana coppia cioè Venom 2 però ha fatto male e ci sono due scemi che litigano dall'inizio alla fine del film e poi ogni tanto picchiano Varcuno e Tom Hardy che è imbambolato in un angolo e quel coso lì fatto Venom fatto al computer come più o meno nel 97 perché comunque gli effetti speciali di Terminator 2 che sono i 30 anni fa andiamo a parlare della moglie di Woody Harrelson che mi dicono non urlare e lei cosa fa? urla e si incazza pure non urlare me l'ammazzi non urlare me l'ammazzi non urlare me l'ammazzi no ma poi la mia cosa mi fa rire è Woody Harrelson è poverino però cioè poveraccio cioè io lui quando finisce i soldi per no lui giustamente lui giustamente io lo comprendo perché è della mia quindi lui giustamente si deve comprare con i 5 kg di fumaggio esatto è vero deve tirare sulle sue piantagioni quindi i soldi ogni tanto li deve pigliare però quello che mi ha fatto veramente tristezza di Venom 2 è che volevano forse forse da quello che ho capito io fare una semi riedizione super eroistica cattiva di Natural Ball Killers perché lui è stato uguale come in trance il problema è che non c'è Giulietta lui accanto ma quella lì che non sta recitando e poi quello che veramente è assurdo c'è la scrittura dei film io capisco che ormai li scrivono come ho detto per l'autobus però non è che te puoi andare a trovare il cattivone in galera fatti mordi in dito l'ho capito dal terzo ma poi tutto un tifamorde perché non si capisce bene il senso in tutto cioè lui 30 azioni prima fa una corsa a motocicletta non so se la ricordate di 40 minuti che va a 140 ore e fa ma se caschi e mi sbriciolo no tanto che se ciotto in corpo anche se mi taglio con cortello non mi faccio un cazzo si capisce bene e lo morde e no perché non è sangue gli esce il velo non capito il senso è se te non cascando di moto ti fai nemmeno un graffio a 200 all'ora come fanno aggraffiati con un dente guarda non per giustificare poi magari è un'azzata però credo no ve lo sono chiesto non la fare la scena tanto se casco non mi faccio un cazzo ma credo che si fa ma si rigenera subito esattamente come col morso è un capito devi far si rigenere subito ma se vai a 220 con la moto e voli da 300 metri prima di rigenerarti devi andare a pigliare sì ma guarda non voglio neanche provare a difendere perché è infambibile ma proprio io non lo so poi c'è quella lì che urla che l'hanno richiusa per 30 anni c'è il potere di urlare perché lo spacca tutto urlando cioè come ce l'hanno portato credo che sia perché le avevano narcotizzate e poi le hanno messo le cose a prova di urlo sì ho capito la cosa a prova di urlo a un certo punto urla butta giù il New York sì ma io sono d'accordo cioè ma poi è un film che non ha senso il primo faceva c'è il secondo non ha proprio senso non è scritto si mettevano improvvisato non è che non è scritto ormai è diventata una commedia hanno visto che andava ormai siccome James Gunn vedono che funziona ho capito però allora vogliono fare tutti James Gunn è solo che non hanno il talento di James Gunn e quindi fanno la merda cioè se è molto semplice lo stesso varia per i Deadpool i Deadpool sono nati dopo i Guardiani della Galassia non è a caso per seguire un po' lo stile della James Gunn solo che se i Deadpool sono sopportabili a un certo punto perché comunque è talmente sopra lì che ci ridi c'era un abbattimento ma poi non è quello a me mi ha rotto meglio il secondo perché il primo ogni tre minuti girava e allora come allora come me lo dia a me mi fa vedere il film non ho capito ma lo devo girare io il film te lo devo scrivere ma lì era perché è proprio una caratteristica che è una portata non sfonde davvero la quarta parete la sfonda relativa perché sto a leggere lì mi sfondi il cazzo cioè stai parlando con me io non voglio che tu parli con me parla con la gente nel 2 infatti parla in macchina all'inizio a due volte sì sì non lo fa perché hanno detto beh è una puttata il 2 poi è girato anche molto bene quelli sì che era anche velo la cosa è la style age sì quello è ben fatto il Deadpool 2 i due Venom per me sono spazzati dopo che poi finisce comunque il topo le cose che vede bella faccia di cazzo dentro la televisione perché anche lì per l'universo lì scoppia tutto e si risveglia nella stessa stanza in un altro universo arriva il ciccione che gli fa ho te qui cioè io io non lo so io so in casa mia entro ci trovo uno e guardo la televisione e gli fa ho te qui come ho te qui lo guardo e fa cosa ci fai in camera mia la prima cosa è che cazzo sei di pigliarsi ai giolati come cazzo sei come ci sei entrato fuori da casa mia pezzo di merda la stronza on fame chiamo la polizia questo cosa ci fai qui scusa orpa mia cosa scusa orpa mia ora si ama la pula e si guarda i sei sei a casa mia questi sono i film scritti col buco del culo ma quelli proprio non si se gli ultimi spider mi scrivono in tre righe questo non c'è nemmeno l'ascensionamento il soggetto non c'è c'è salutiamo la voce se si fa senti ho 45 minuti dell'ora di dialogo con essi fanno le battute 20 minuti di effetti speciali si smusano 20 minuti di effetti speciali che non si smusano fatto e firme guardi la sceneggiatura vedi che sono in 5 dove l'ho scritto ma lo sai perché solitamente se te noti i film scritti bene c'erano sempre uno o due i sceneggiaturi quelli scritti male sono 5 perché non li hanno scritti insieme scrivo delle cose uno scrive solitamente c'è uno che l'ha scritto la casa li ha fatto stracà li cambia l'80% cambia un altro quest'altro li cambia l'80% alla casa li fa cali garbar 20 rimane il 40 ne mangia un altro ne fa altro 20 perché prendete buttalo tutto insieme e poi viene fuori sto faccio perché di merda più gente scrive i film più i film fanno schifo è sempre così come Ant-Man e Edgar Wright che l'aveva scritto poi l'hanno fatto riscrivere vabbè ma Ant-Man e Edgar Wright è uno dei pochi registi seri non si fa come dico io me ne vo lui voleva semplicemente lui continuare a dire io voglio fare un film stand alone non voglio fare un universo non lo dobbiamo farlo andatemi a fanculo è fatto bene è uno dei pochi registi seri però la sceneggiatura buona parte è rimasta infatti secondo me è guardabile si si a tratti guardabili a tratti insostenibili un po' come tanti però almeno si guarda però almeno c'era questa cosa della miniaturizzazione che ho usato a peggio in alcuni momenti però è un po' noioso però ma l'aggetto che ascolta c'è nel senso è vero che mi piace tutto ma sono capolavori lo so anch'io no ma mi dispiace perché in realtà Spider-Man 2 Batman Returns X-Men 2 X-Men Giornati è un futuro passato Capitano Winter Soldier alla fine il primo Avengers c'è comunque i Guardiani della Galassia il sostegno di scuote di di Graham Dottor Strange dopo quelli di Erickson non è male dai artisticamente ha il suo non è brutto Dottor Strange il problema è se non è il cattivo che non regge nel senso che hanno fatto un doppio cattivo ma Smicker si è buttato via e poi il Mordo che è bello e lì già non torna tutto il resto del fumetto perché quello lì è talmente grosso come il cattivo che mangia lui quello che lo intrappola nel loop temporale si che non si è capito perché un fa subito con Thanos la stessa cosa visto che questa era dieci volte più forte di Thanos anche mille visto che questo mangia l'Universi quindi questo un lo fermi nemmeno a cazzotti quindi è veramente assurdo Dottor Strange sconfigge il mangiatore di Universi lo sconfigge uno stronzo con il guanto quindi se vai a giro col preservativo perde Dottor Strange se lo metti metti il guanto vince lui perché punta fatti ne va a quello è così anche bella scema anche bella che montassi sulla testa invece di fare levati il guanto aspetta le levi li sto controllando la mente riesco a tenerlo fermo riesci a decidere levargli il guanto magari provaci visto che non gli si vuole levare il guanto ma scusami ma tagliame no no più che altro all'inizio del film tagliamo il braccio lo scagnozzo ma tutto è tutto strange proprio non poteva essere se vogliamo guardare in quella scena lì cioè perdono perché arriva quello non dovevi io sto d'accordo su quello non dovevi un film di merda ma gli uomini ragno il 3 3 si è detto il 3 Remi secondo me gira bene la genesi dell'uomo sappia è meravigliosa secondo me è un po' sottovalutato rivedendolo dopo gli anni al cinema mi disoluse molto poi è tutto il computer grafico eppure rivedendolo con gli anni cioè metà film è veramente buono l'altra metà è tirata via però ad esempio è vero non c'entra la sega però vabbè poi dopo aver visto le due lì diventa che c'entra è vero che non c'entra però c'è anche da dire una cosa tutte le scene con Venom sono molto horror e anche il finale con lui che butta io non voglio fare una apologia di quel film ma il finale con lui che butta Venom tra i pali con la bomba è Eddie Brock che è talmente assuefatto da quello che il costume che si butta e il film è brutto però ha delle trovate ma secondo me non è brutto secondo me è un film sbagliato si è sbagliato c'è un film che se prendi di due ore e dieci di film un'ora e mezzo secondo me funziona e che c'è 40 minuti di intrecci che non risolvi i personaggi non servono a nulla allungano il brodo quando quello ci doveva essere solo l'uomo di sabbia facevano un grande film beh anche l'uomo di sabbia comunque c'è anche la frase non sono io cattivo è cattiva la mia sorte molto bello è bello ti ripeto i suoi personaggi sono quelli poi ha messo il costume nero e ci ha messo poi Venom c'è capito? si però il punto è che lui in realtà voleva fare il costume nero nel 3 però senza Venom senza Venom si si perché il costume nero ci sta perché no perché incupiva molto i toni cosa che gli hanno cambiato la sceneggiatura lui il terzo siccome era adulto per lui era cresciuto non aveva più 17 aveva 20 anni vesto moragno è nel mondo del lavoro è adulto come fa vedete un minimo gli crolla un po' tutto addosso era questa l'idea era tutta rivezza la sceneggiatura poi è venuto poi la cosa di lui che balla eccetera quello è Remi secondo me era fuori luogo però posso capire che molti lo trovano per me l'idea che balla è grandiosa perché è come è come ho capito è sempre lui non è lui ragazzi è un nerd fallito che ha avuto il culo molto intelligente genio ma che ha avuto il culo che l'ha pinzato al ragnolo se no era dentro dentro la Pfizer a fa ingegnere per i casi farmaceutiche non era a fa quindi lui è così quindi lui una volta che si rende conto del potere che ha una volta che se ne libera a livello di costume una volta che se ne libera a livello che si libera e diventa nero cioè si libera a livello di quella coscienza che appunto che gli imponeva di essersi in realtà viene fuori che come sarebbe veramente Peter Parker se non fosse frenato dall'idea appunto di avere quella cosa lì sarebbe un coglione che va a gira a far guappo ballando è troppo ma no e invece è così perché lui non ha mai ballato in vita sua noi ci stiamo scordando di che lui è quello che non ha fatto il ballo di fine anno è quello che non invitava alle feste lui non ha mai ballato quindi finalmente con il nero viene fuori quella sua loggia di ora ballo ballo per la strada e ballo male lo so che faccio ridere e non gliene frega niente niente di niente lì è per fatti capire il cambiamento scuderato Peter Parker non si vuole nemmeno quasi far vedere non usa quasi i suoi poteri nemmeno per consegnare le pizza e si fa licenziare e una volta libero ballo in mezzo alla strada è ridicolo no è ridicolo volutamente perché lui ti sta facendo vedere che Peter Parker è un personaggio ridicolo ho capito è un povero con gli oggetti non è brutto da vedere è brutto da vedere per te c'ha un carrello bene indietro no 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 lascia stare la tecnica quello si è reimi grazie a cazzo no ma non è tecnica è come la usa nella narrazione sicuramente è perfetto che balli così perché arrivi al cinema ridi ridi e fai to guarda questo cazzaro finalmente balla si è sfogato due minuti e chiaramente è un cazzaro io non ma scusa ma come doveva ballare non doveva ballare e allora come cazzo la fai la scena di uno che non ha mai ballato che non vuole ballare perché non ha mai ballato che non balla cazzo deve sognare ci sono altri modi per far vedere che è diventato stronzo no no non è stronzo è differente no non hai capito lui non è diventato stronzo lui è diventato quello che sarebbe stato se non avesse avuto la coscienza dello zio morto quindi non è stronzo dice me la godo la stronzaggine sarebbe che lui comincia a rapinare le manche ma no ma scusami quando se diventi stronzo quando seduce la figlia di Ditkovic che è quella dell'affitto si comporta da stronzo no si comporta da un uomo di vent'anni che non ne vuole più di fallo moragno da quattro che comincia ma non è cattivo tutti si comportano in una storia non possono essere cattivo c'è una giornata che mi girava un po' storta sai com'è mi va più potere c'ho quello mi gira il cazzo arrivano 6.000 attivi mi gira un po' coglioni sarebbe lo moragno cioè nel terzo è regolare comunque lui balli ma l'idea l'idea del costume di ero è che lo trasforma non solo in stronzo l'idea è che lo trasformi pian piano in cattivo capisci che ma non nel film ma si nel film ma no nel film non diventa cattivo per il costume il bello è quello è un'allegoria diventa cattivo perché lui vuole diventare cattivo se lo vuole levare quando vuole quel costume solo che non se lo vuole più levare perché a cinque anni che si sfrange i coglioni a salvare le vecchiette e continuano a trattarlo di merda sui giornali a essere trattato da cazzo di cane e quando non è l'uomo ragno continua a dover fare le fotine e si è trattato come un pezzente quindi si è rotto i coglioni di essere uomo ragno tutto guappo e vuole essere Peter Parker quello amato perché amano tutti uomo ragno e nessuno ama Peter Parker tranne la Sofia e non gli basta più e infatti si lasciano il casino ma non gli basta più e è lì la cosa bella e lui balla perché ti va nel culo proprio a te che sei quello che lui odia perché sarebbe quello che lo piglia per il culo perché balla per la strada quando io invece se cammino vedo uno e balla sempre per la strada ride e vuole diritto e lui lì fa questa scena lui non vuole ti dà proprio l'idea di dire lui fa proprio ridere fa il cazzo che gli pare perché quasi a voglia di trovare uno che lo guarda male cioè lui fa il cazzo che vuole sa di essere ridicolo sa che fa il balletto e lo fa poi fa il ballo strafigura tra l'altro balla anche di lusso in un certo momento e quindi cosa fa? ci riuperi le fie come lo sa quello che non ho fatto finora trombo cazzo mi diverto ballo perché sono un uomo ragno posso fare il cazzo che mi pare poi tutto li ridrolla facciamo sentiamo secondo me avete ragione tutte e due perché mi ricordo nel film che lui vabbè il simbionte chiaramente l'influenza lo sta facendo diventare una merda perché è il simbionte ma lui a un certo punto può scegliere se tenerlo o meno e lo sceglie lo sceglie la logica è che lui ma lui non sa di essere così allora devi capire che noi lo sappiamo che il simbionte lo cambia ma lui non lo sa beh se ne accorge ma no ma se ne accorge ma in una maniera diversa perché è una maniera inconscia nel momento in cui se ne accorge è troppo tardi se no non avrebbe usato il costume perché lui in realtà si rende conto che il costume lo cambia e li fa tirare fuori il lato del carattere che lui non può tirare fuori perché se no lo sgamano vabbè ragazzi mi capisci? ciò intendo Dario cioè se lui però non diceva perché ho detto una cosa unica in un'ora devo cristiano devo cristiano oh madonna scusate perché per chi ha detto che si aveva ragione tutti e due si si può capitare no ma attenzione attenzione però il punto è il terzo ma il punto è che si ricordano ancora stasso democristiani ah vedi si si questo è una cosa spesa cioè chiamate non erano veramente democristiani cioè facevano il cazzo il cazzo volevano comunque ma comunque il terzo non è un film non riuscito però io se me lo fai vedermelo guardo se mi stiocchi a masi in spider-man mi butto al terzo piano dove sono solo preferisco fratture no perché c'ha del cinema quelli altri per me sono semplicemente spazzatura per esempio tu hai citato hai citato la scena non lo sappia l'ho rivista l'ho rivista recentemente il film e mi sono preso conto effettivamente che ha dei momenti che sono effettivamente pazzeschi quelli che ha voluto fare Sembremi questi altri sono quelli imposti per quello che ti ripeto con un regista di quel calibro ormai è un problema lavorare per questi studio perché se a Muccino che non se si stiene per buone le parole di lui se a Muccino che non conta veramente un cazzo che però con la ricerca della felicità e con l'altro film di merda in America ha fatto il botto se a Muccino gli chiedono di rompere i cogliene a Muccino e non gli fanno fare un film a Muccino che immagino avanti rompa il cazzo ma in realtà che a Muccino ragiona ragiona ma poi se l'avessero fatto senti mi fa un culo a quella sceneggiatura di Gira Vesta secondo me la girava che non è che la ricerca della felicità fosse scritto in un genere a merda sette anime è scritto da Mario Mero è Mario Mero è un lacrima uvi napoletano dell'anni settanta ma anche è stato cioè questi film di merda cioè quindi a un certo punto e quindi cioè immaginati cioè questo Dio io se siamo in un mondo in cui non fanno lavorare a Muccino perché viene considerato autore come fa a lavorare Dante Carpent come fa a lavorare sempre mi libero c'è il fatto di dover costringere uno come il Remi a fare il film che vogliono loro a me anche se lo vuoi fare perché alla fine è lavoro è voglia di girare e ti manca però se lui voleva davvero fare Dottor Strange avrebbe detto faccio Dottor Strange da solo cioè o avrebbe chiesto lui di farlo noi chiaramente un regista quando viene pagato come lui minimo verrà pagato 20 milioni di dollari per fare quel film lì con quel budget lì nessun regista ti dirà ma se lo lascerò libero ma nessuno no no ha già detto che non sarà libero come tu sai ma è normale cioè se nella Marvel è il C.U. e devi metterci della roba che loro devono usare dopo cioè questo universo ha un problema se a Sembremi gli fai girare un film dentro l'universo ha dei paletti che non può superare per forza e allora elimini la grazia e l'artistica di Sembremi che allora a questo punto e ripeto per me sbaglia Sembremi dovrà rioperare 10 milioni tanto ce l'hai e fa un altro Drag Me To Hell invece che continua a produrre film di merda con la Ghost House di merda che fa film solo di merda producili in film buono te porca troia perché non se ne vuole più ma la cosa inquietante è che nell'intervista di sei anni fa disse che lui con la Ghost House produce film orroretti del cazzo con registi del cazzo e li distribuiscono ma non vogliono lui è assurda no non è assurda perché lui rompe i coglioni ai produttori è chiaro perché lui rompe i coglioni ma perché non si autoproduce non ti puoi autoprodurre perché poi arriva quello che mi ha detto Romero quello che mi aveva detto quando parlai nel 2007 Craven che erano anni si può dire per il semplice fatto che poi puoi essere quello che vuoi aver fatto il film che vuoi me l'ha detto anche Romero tanto se ti sei inimicato da determinate persone il film non esce no Romero negli ultimi anni no no il film non esce Romero negli ultimi anni aveva fatto sette sceneggiature negli ultimi due anni tutte quasi pronte non l'hanno fatto lavorare per dodici anni è morto ora esce il film con la sceneggiatura nuova di Romero diretto da un altro questo così fa il mondo però non l'hanno fatto lavorare per vent'anni a voglia di di perché era Romero ma di un rile aveva fatto quei due granbelle ma però cosa ha detto cosa ha detto non trovavo distribuzione ma no certo lui ha detto io me lo posso produrre il film e poi se si guarda in casa ma quella non te l'ha trovata alla fine no non l'ha trovata perché no sono usciti due lui ne aveva scritti sette no no ok però io dico almeno quei due ma cosa vuol dire almeno quei due ha fatto il primo film e un 400 mila il Siondo con un milione e mezzo di avro che non è nulla e il terzo non gliel'hanno fatto fa perché il Siondo non è andato bene ma il Romero non è che si è andato bene non è andato bene del film è come il Picasso di Illiteone non è andata bene l'ultima mostra non fa più quadri ma che cazzo vuoi cioè il problema di questi qui è che non sono tu li ho ma il Picasso e non si ribellano cioè ormai tanto vivano quello che spiego sempre io questi registi per quanto noi le avevamo sono persone che vivono in case che noi non ci immaginiamo mai che guadagnano un milione di euro al giorno che hanno 47 Ferrari 12 A6 una A6 in Italia una in Inghilterra secondo te a Sembremi ora che è 10 anni un lavoro anciano un po' gli sordi li cascano sul gruppone c'è avrà da pagare i tre cassi arriva la madre che li fa guarda minimo sono 10 milioni più di 3% e li incassi fatto ho pagato sordi via a 20 anni per continuare a fare la mia vita da una babbo miliardario di merda cioè non si può pensare anche questi non sono bella tarra cioè anche se io lo adoro Remy comunque fa film per i sordi alla fine e più che altro fa una vita da soldi perché anche a lei che fai film per i sordi ma non mi dai mica Hollywood il differente è quello cioè Cronenberg può fare quanto gli pare Maps to the Star capolavoro può attaccare quanto vuole Hollywood ma vivi a Hollywood e allora cazzo attacchi c'ha la Asa o la Villa con quattro cuochi allora ci vedo che poi sei stato 5 anni a fan Netflix salva la vita Netflix ha la vita l'hai portato Crime of the Future a Netflix hanno fatto una arrestosa quindi si produce è troppo asinosa Netflix è una merda se l'hai produttore da solo cioè vedi come fanno presto quattro anni Netflix o comunque l'on demand è la vita la sala è morta distrutta non farò mai più un film mai più quattro anni dopo non gli fanno fare nulla Netflix gli danno i soldi per fare Crime of the Future con Bidu Motors e non esce questa è la bellezza e la bruttezza dell'industria cinematografica ci sono questi che sono artisti che parlano noi li crediamo anche persone eccezionali invece a volte probabilmente lo sono molto meno sono esseri umani sono esseri umani però vedi Romero che è un essere umano che già ha i soldi e non gli interessa farne degli altri per non mantenere lo stile di vita che se ne è andata a vivere in Canada nella sua bella casa la cosa tragica di Romero che doveva fare e questa cosa è fantastica che aveva già fatto lo spot per Resident Evil 2 quando uscì quando il secondo gioco che si vede quello spot è una roba pazzesca è certo di Romero ok scrive la sceneggiatura per il film gli dicono no preferiamo darlo a Paul W. Sanderson questa cosa io non ti giuro è una roba ma per un semplice fatto per il semplice fatto allora io la sceneggiatura di Romero ho avuto un modo di dare un'occhiata non c'era azione meravigliosa meravigliosa è Romero ma per un'ora non c'hanno zombie hai ragione ma neanche nell'ultimo però è diverso come stile cioè Romero te l'avrebbe girato Romero è un teorico era un regista che decise io faccio la città verrà distrutta all'alba con due lire non muovo la macchina da presa uso solo montaggio e fotografia e zero quasi parole per utilizzare un linguaggio diverso meglio utilizzare un linguaggio diverso in questo film deve parlare il montaggio sempre fisso macchina mai a mano quadrature bloccate è un esperimento per fare un movimento di questo tipo lui Romero ogni film ha sperimentato quindi nel film che avrebbe fatto avrebbe sperimentato altro e i produttori su un franchise come Resident Evil se gli va male il primo film è finito sono infatti a 500.000 film e a 400.000 animazioni non finiscono più perché oltretutto quello che mi dispiace per Romero è che il primo Resident Evil di Anderson funziona pure è pure gazzo e poi è romeriano e quindi i zombie sondolano però non è che comparivano molti zombie nella prima non neanche in quello no però però compariva quello che piace a quelli dei giochini la cosa casca quello l'umbrella vedi bell'arto vedi su vedi su io ho letto quello di Romero quello di Romero è comunque non aveva magari uno zombie nella prima ora però cazzo era bello perché poteva andare bene per il pubblico medio che non aveva giocato i giochi ma io quei giocati i giochi li amo ho letto Cristo ma dammela subito tanto si sta parlando purtroppo di un regista morto ragazzi mi interrompo un po' per farvi parlare positivamente di un film ovvero The Spider-Man 2 ma se era sparrato è bene però di Spider-Man 2 incredibile sì sì vabbè ma va benissimo in realtà ma anche nel terzo e dico ancora cosa lasciate so che magari siete un nuovo tipo di pubblico non conoscete i confronti tra virgolette di trusciante lo sta distruggendo sta subendo no 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 perché parla sopra Vic non parla ragazzi è così non è vero che non parlo ma come non parla porca cazzo urla lui che cazzo devi fare sono stato io la prima volta a dirgli io fai piano a me è detto non urlare ma sai che io sono così io poi non parlo sopra ma posso dire venite in negozio e poi venite a me sembra uguale alle altre volte non è cambiato un cazzo ma a me sembra di essere anche più tranquillo lasciate chiaramente lasciate chiaramente forse non vi conosce su youtube ma meno male ma è sempre così cioè io lo chiamate apposta perché sapevo ma ci si vuole bene nell'odiarsi ma stai scherzando certo ma chi odia hai fatto bene magari ero un po' confusi ma poi confusi belle mia io sono fatto sì andate da Nardo cioè io poi sono fatto sì io qui sono qui che devo ricordate che sei divertito tu ma purtroppo ci si diverti anche noi ma io mi sto divertendo un sacco non è importante anzi scusa io non so a lavorare già è qualcosa è un giorno un suo negozio ma è vero parliamo positivamente di Into Spider-Man sì 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 per me è un grande per me non è questione di Spider-Man no quello è proprio un gran film di animazione concettualmente come è Garmato però è anche innovativo sì innovativo ma è piaciuto perché comunque nel non prendersi mai un momento sul serio in realtà poi racconta cose serissime la morte c'è l'unico film è che muore l'uomo ragno dopo due minuti è vero e quindi e poi c'è questa accettazione a questo ragazzetto di colore che è fantastica e poi questa idea geniale di come arrivano gli universi cioè ci hanno messo una storia ancora più triste di quella che in realtà giustifica quasi la morte dell'uomo ragno cioè nel senso questo Kingpin che vuole ritrovare la famiglia questa umanizzazione a un certo punto non riesce a capire se è più umano lui davvero l'uomo ragno in un certo senso perché in realtà sta facendo qualcosa che non lo vuole portare al potere poi è chiaro che in realtà il potere ti fa andare fuori di testa non ti rendi conto che stai facendo qualcosa che facendo questa cosa probabilmente come ti fa vedere il film poi la famiglia ti direbbe cioè distruggi il mondo per far tornare a noi in un mondo vuoto praticamente sì esatto quindi il bello è quello fa una cosa da cattivo però lo capisci quello poi ha uno stile meraviglioso proprio grafico è un forse cosa è proprio ma poi è bello perché è forse paradossalmente il vero cinecomico nel senso letterale perché è effettivamente un fumetto che prende vita al contanto di retiro se lo può permettere se lo può permettere Dario sa meglio di noi l'animazione se lo può permettere cioè ci sono cose in animazione che sono fruttili anche da me che non li sopportano perché l'animazione ha diverse regole ha diversi cambi cioè quando mi splitti uno schermo in tre e mi fai la frase fumettosa e è già animato va bene mi fai il tonf e il fumettino nel film fai ma come cazzo ma se ci pensi in un film più o meno contemporaneo che è l'ulk di Ang Lee lo split screen funzionava cos'è? l'ulk Hulk quello di Ang Lee ah sì ma l'ulk di Ang Lee però stava girando lì stava girando più o meno come era l'opera l'altric cioè lì c'è la regia di quella sporca ultima meta sì è un altro discorso è splitta allo schermo come l'animità non è uno dei migliori i miei fatti è un grande film anche di Hulk è piaciuto? io mi ricordo ma sai che ci sono è uno dei tuoi film e c'è l'intelligenza da tutte le parti e infatti non l'ha cagato nessuno non l'ha cagato nessuno perché è troppo verde Hulk io non lo so non l'ha cagato nessuno perché la gente va a vedere Hulk e spacca Hulk compare in due scene e fa bene sì sì io sono soddisfattissimo è un dramma familiare è una genesi è una genesi cioè per me le genesi dei supereroi il supereroi lo deve far apparire anche guarda che anche Spider-Man con la tutina di Spider-Man nel primo moragno appare dopo un'ora sì sì ma va bene ma se è così infatti per me l'unico film meno coraggioso in questo senso è Batman Begins di Nolan che è un bel film ma secondo me doveva avere il coraggio di non mascherare Batman per tutto il film e far rimettere la maschera quando va sconfitto alla fine secondo me quello nuovo di Matt Reeves te lo mostrerà molto smascherato io c'è un problema mi sono un po' rotto i coglioni di questi Batman allora guarda io ti dico la verità io ti dico ok hai ragione posso capire fate qualcosacce ne è mille fumetti tu lo sai di Flash il prossimo quando il film è di Flash allora devo darti una notizia però reggiti ma perché al supereroi Flash e corre aspetta aspetta nel film di Flash c'è il multiverso ah è strano aspetta aspetta c'è il multiverso non è DC c'è il multiverso anche loro ci sono arrivati prima della Marvel loro già con le serie sì 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 ma io le serie non le cavo eh lo so però le han collegate per forza c'è multiverso aspetta c'è multiverso e ti dico che in quel film c'è il Batman di Keaton che si incontra con quello di Ben Affleck e lo so è così eh sì pensavo non so fessi pensavo ci manca la primaia ci metti un po' tutti devo vieni chiama la primaia ci è mancato Polino buttaci dentro altre due stronzate credevo l'avessi cartita no io l'unica cosa che non faccio nella mia vita è andare a cercare informazioni ma però sai magari ti tira vedi su Facebook no 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 non mi ravvedo io come vedo esce il nuovo Batman via dalle palle però ti dico sinceramente poi lo andrò a vedere perché almeno il trailer l'hai visto no 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 il trailer non riguarda di me ho guardato quello dell'uomo ragno perché sono venuto qui ho cercato di guardare e tutto e ho fatto delle domande e ho trovato biglietti io ti dico se vedi quel trailer sembra quasi di vedere Seven con Batman sembra un film di film cioè lo vedi però c'è Batman sarebbe brutto Seven con Batman però non lo so mentre loro arrivano sono arrivato io paradossalmente è quello che sembra Pattinson perché Pattinson è diventato veramente un bravo attore ma è sempre stato sì però diciamo che non gli aveva dato molto la possibilità di dimostrarlo ma secondo me era bravo anche in Twilight hai detto c'è il film che ti pone a recitare così per fare quel personaggio però diciamo che lo depotenziamo parecchio più che depotenzia fai quello c'è il tuo lavoro è giovane faccio quello era bravo anche in Harry Potter quando era ancora più sore era bravo anche nei film per Twilight ma in Lighthouse c'è Edgar ripeto comunque quando ti dirige uno dei maggiori geni del ventunesimo secolo uno che ha giocato due film e fanno capolavori non è come se ti dirige Ben Affleck appunto se dirige Ben Affleck caschi bene visto che i film da regista sono bellissimi per caso è quindi Gone Girl Gone Girl ma io Gone Girl è Fincher ah no scusi però è Fincher io quello che preferisco di lui di lui per il resto mi piace io di lui preferisco Gone Baby Gone mi pare si chiama Gone Baby Gone bellissimo questo fratello e The Town The Town bello che è molto Michael Mann ma secondo me non era il multiverso arminato funziona siamo d'accordo non sapeva non sapeva perché ha detto ma hanno rupto un po' il cazzo ma ha detto ma lo sai vero che nei film di Flash ce ne sono due lui non la sapeva lui non sapeva che c'era il film di Flash fanno un film di Flash che lo fa muschietti quello di Hit ah bene una merda siura vai dopo Hit ma è bene casa sua non rompa più il cazzo con gli horror e vada a girare steo se vi faccia è un film è un film che peraltro ha avuto tre registi che si sono susseguiti che poi se ne sono da l'altro ah quindi sarà una merda sicura quando un regista se ne va vuol dire che sta andando a puttane se ne vanno due e sta andando a puttane tutto è andato tutto a puttane monta quello che c'hai butta dentro tanto ci hai messo 32 Batman Flash la gente ci viene e se che non lo so farà farà un botto che non ha idea non c'è un Batman anche i Batman più fetenti del mondo che ce ne abbiamo avuti ora 4 no no ma Schumacher è per me in confronto a Zack Snyder e Justice League e il genio abbiamo avuto dei Batman negli ultimi quelli Snyderiani che sono talmente fetenti che io penso che tranne gli amanti di Snyder chiunque essere un amante di Snyder è essere come un amante di un tavolino però ognuno ama quello che gli pare a me non ti spiace però amante è una parola grossa non ti dispiace prima o poi il lavaggio del cervello l'arancia meccanica te lo farò e non ti piacerà più perché insomma quando un regista prima o poi capirà che se un picchio lo fa partire a destra e arriva a destra e non a sinistra quando questo lo capirà 23 firme perché sbaglia tutti gli imbattimenti e ogni volta che si picchiano in una stanza se ci si picchia in questa stanza io non capirò mai dove sono messi un più tempo perché con Snyder non ha idea di quale sia la costruzione si picchiano da una parte fa l'inquadratura larga ma un erano accanto al tavolino era dove sono un bagno è tutto così quindi fai un casino certo dopo aver visto Army of the Dead su Netflix di Michael Bay incomincia di Snyder incomincia a essere Snyder appunto il mio regista più odiato altro è Michael Bay cioè questo sta veramente questo è veramente dannoso già lo odiavo perché ha ridotto Zombie di Romero a quattro galletti e corrono con numero di da 120 ma lei ha piccicato il titolo ha piccato il titolo un cazzo ha piccato un cazzo un cazzo un gruppo di persone che va a rifinire c'è lì zombie dentro un supermercato e le sopravvive è il soggetto di Romero ma finisce lì non c'è un po' a me Romero mi ha detto che Snyder doveva volare Dan Ponte però il punto è io sto a Romero però scusami a te di quel film da fastidio cosa? a me che quel film da fastidio prima di tutto che è brutto ok è brutta la sceneggiatura è brutta la sceneggiatura proprio perché i personaggi non sono credenti ma l'ha fatta a Gammy che l'ha fatta Snyder ma non è un problema perché la sceneggiatura quando è brutta se hai un grande regista riesci a vedere quando è brutta e la cambia quindi Gunn se l'avesse girato lui la stessa sceneggiatura come ben sai col cinema con le inquadrature quella è vera la fai diventare comica se vuoi sono sicuro che se lo girava Gunn ci metteva un'ironia che lo rendeva molto più responsabile anche molto seguito inoltre ti faccio presente che Gunn quello gli hanno detto ti pago la sceneggiatura ma la devi scrivere così inoltre mi dispiace per quel film di Snyder soprattutto che si dovrebbe vergognare perché quando hai l'autore che è Romero che è un genio dell'arte non solo del cinema ma uno dei maggiori geni del ventunesimo secolo che ha fatto un film che è un capolavoro di tutto il mondo è come se te prendi la gioconda la rifai la fai bionda sia diventa la Ferragni e se non vinto l'avete fatto un bello la gioconda 2 cioè quello è il succo ci sono opere d'arte che non andrebbero toccate e se poi le fai toccare a registi di Merdom e Snyder che sono shooter del cazzo e girano quello che gli dai è chiaro che non possono che tirare fuori merda è chiaro che se lo dai a Singer quando è in forma guarda quel Superman retals massacrato da tutti massacrato da tutti in realtà quel Superman ha solo è troppo gonfio dura troppo ma quel Superman è l'unico Superman che è pari Superman beh sicuramente meglio di Kevin che poi povero Kevin non è neanche colpa sola la colpa perché lui come aspetto ci stava anche il problema grosso è che ha scritto un po' a cazzo cioè faccio un isola non è che ha scritto un po' a cazzo no ma tu dici è comunque scritto meglio Meno Steel no ma Meno Steel non è scritto Meno Steel non è non fatto una sceneggiatura Meno Steel hanno preso Meno Steel non può avere senso un film io lo dico sempre la tecnica la sostanza non può avere senso un film che inizia in un pianeta dove ci sono otto soli blu la fotografia è blu e lì guarda che fai Snyder è tutto blu va sulla terra è tutto blu ma noi ci sono solo giallo testa di cazzo ma soprattutto io no ma no ma è proprio una versione filmica non mi fai cambiare niente sono come quei registi incompetenti che girano i sogni uguali alla realtà eh sì però devo lasciare diversità mi devi dare un qualcosa ma anche un minimo anche nella mancanza di una luce di un quadro qualcosa che mi faccia uscire questi qui sono Shooter te lo ripeto l'ha chiamati così e l'ha inventato nel 93-94 del termine Carpenter quando gli dissero al mondo perché te duri così tanto fatica a fare film perché ormai i film li fanno gli Shooter non i registi che siamo noi noi siamo i registi questi sono Shooter sono uomini delle multinazionali che è gente che gli dai un giocattolo fanno le loro fotografie per quello Shooter ne mettano una dietro l'altra e sono convinti di aver fatto un bel giochino io quando faccio cinema e lì nacque la famosa fase io faccio politica chiaro? che l'ha detto Carpenter non l'ho detto io quindi quando lo dice Carpenter lo dice Romero lo dice Rosalanti lo dice John Landis lo dicono tutti questi non ti fanno lavorare perché la politica non tira come dice è un film un po' politico lo dico io in un film e basta sta politica è che palleo la politica è tutto studiate un attimino magari sovoldi ma la politica la politica è politica ma non sono scindibile ma invece per la gente mi pare che sono scindibili non hanno capito che la politica c'è anche quando fai vedere appunto ogni scelta è politica all'interno di ogni film certo e la politica d'autore tra l'altro basta leggere ma la politica c'è anche nei film quelli ma è tutto politica comunque la politica c'è sempre ogni scelta è politica se te decidi o no senza la targhetta degli handicappati di mettere la macchina dove non c'è il posto è una scelta politica anche vero la vita è sempre politica tutto nelle scelte di fa poi i filmabili sono dettati dalle scelte politiche certo e il mondo è dettato dalle scelte politiche della gente che sono anche etiche e morali che cambiano infatti quelli che dicono lascia fuori la politica al cinema quello purtroppo è bella lascia stare fuori la politica dal cinema lascia stare il cinema cioè lascia stare la vita cioè la scelta poi questi qui non hanno capito un cazzo la scelta di dire a me la politica mi fa schifo è una scelta politica è fantastico quindi siete meravigliosi togliamo un attimo è un film che funziona per tutto perché quando un film funziona a livello di forma cioè è legato non sbarella mai è proprio un film che ti fa finire voglia di dire non fate un seguito vi prego ecco e esce a cosa di Spider-Verse ecco non dovevano parte 1 parte 1 vai ci risiamo maremma maiala però aspetta queste parti avevo visto un cazzo di firma e finiva e ora riparte aspetta ma non aspetto non aspetto un cazzo è come dura non aspetto più un cazzo mi sono rotto i coglioni che devo aspettare il terzo perché mi sia bello è il primo no no ma dici per parte 1 parte 2 lo fanno tutto insieme sì sì però perché l'hanno chiamato parte 1 perché esce la parte 1 però lo girano tutto assieme lo fanno ecco anche il bimbo anche lì mi incazzaio anche con Tarantino sei una merda certo è così che il mondo ha iniziato a smettere nei primi anni 2000 di avere il cinema quando hanno cominciato a dire i film non si mandano più perché durano tre ore signore Danielli durava tre ore era pieno ma se adesso durano tutti tre ore il primo di più lo spider per se ne ha incassato una virgola dei cinecomics classici o l'attori quindi l'arte è più forte delle richieste e dovrebbe essere così ma non è così no con tutti i sordi che hanno guadagnato ste merdone anche se in firma invece di un miliardo ne incassa 600 morirà e comunque non è vero se fa un film di 4 ore intanto li riabitua e anche quei pochi magari non incassa un miliardo ne incassa 500 ma eri abituato a 500 bimbetti a potersi sorbire in sala vattore di roba io non so con scottini io non sono ottimista è quello che ha detto Scott io non ho detto che sono ottimista io ho detto che se si continua a dire ma è troppo ma è troppo ma è troppo alla fine dureranno un quarto d'ora saranno serie tv e si andrà al cinema al sito ma guarda che adesso sono due ore e mezza tutti durano due ore e mezza appunto se mi guardo tre ore di merda di Avengers Endgame mi posso guardare quattro ore di universo di Spider-Man fatto bene quella merda di Endgame ci è andato tutto l'universo ci è andato l'universo fatemi vedere tre ore tagliatelo un po' se sono quattro fatelo di tre fateci vedere sto tutto se ne vuole più secondo me il problema qua non è solo la durata perché secondo me se avessero fatto per esempio il nuovo Spider-Man di quattro ore ci sarebbero andati il problema è che si fa l'animazione e quando si fa l'animazione è un casino tra l'altro non è più ora sono anche cresciuti e allora non lo fare di quattro ore non lo fare di quattro ore scrivi un'altra sceneggiatura perché così così in realtà è una presa di giro Dario mi dispiace è una presa di culo ci stanno prendendo tutti per il culo se o no non può darti io aspetto il film no ma non a livello estetico non mi ne frega nulla è una presa di giro vi state prendendo facendo prendere in giro da una scelta loro che è solo monetaria vi state facendo prendere per il culo con l'idea che l'animazione non ci vada quattro ore di animazione ci andava e come ne facevi fare di due ore uno e poi un altro l'altro un miliardo e mezzo sono tre se tre facevi usci uno da quattro non cassa un miliardo e mezzo sì no quello sicuro e allora era solo una scelta solo fottutamente commerciale basta l'artista l'arte allora è morta fine del cinema non se ne parla più l'arte è morta mi sono stati dietro a sti stronzi che mi davano di anche quanto cazzo di tempo devo stare in un cinema lo dici di te lo dici che ero io se voglio avere quattro ore di tiri questo per me è ok e poi vanno a fare e poi vanno a fare come a Livorno in The Space 64 puntate di Breaking Bad ci hanno passato tre giorni senza uscire e mangiare quello ci stai dentro il cinema però sono invece un po' più ottimista nel senso che se il film è in cassa cioè se questa ne faranno 75 di uno due film fanno anche altri film d'animazione belli la vedo molto dura allora se Marvel se le mette di Universe se mette le Grimpy anche lì è finita ce le mette sicure perché lo sai perché non ce l'ha messa vuoi sapere perché non ce l'ha messa perché non ha incassato così tanto no non ha incassato così tanto perché ci sono contratti cioè i contratti quello è Sony si sa ma non ci mette le mani sopra per il semplice fatto che comunque ha incassato qualche centinaia di milioni ma non ha fatto i due miliardi i tre miliardi però per essere un film dell'innozione ha incassato bene no 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 non dico quello non ha incassato bene ma come dice lui c'era un 200 Spider-Man e ha incassato e ha incassato e ha incassato e ragazzi ma purtroppo guarda l'unico prodotto animazione che è riuscito guarda per me è stato strano perché io pensavo che la manca del vero che è riuscito è una serie va bene però è l'unico prodotto animazione ma non si può nemmeno dire troppo perché comunque è roba da Netflix quindi c'è come fare a sapere quanta gente sarebbe andata al cinema c'è una fruizione completamente diversa ma poi è una serie ma l'hanno vista anche me l'hanno faccia vedere sono fatto un po' due coglioni no dai è bella per te per me è discreta si guarda vabbè ok però non è brutta è un copia in colla da tutto quello che ho letto è scritto degli anni 70 a vita mia però tutta la fantascienza che ho letto 1400 volte chiaramente chiaramente le generazioni sono nuove uno di 17 anni non può aver letto quello che ho letto io e gli parrà una cosa gigantesca fa vent'anni quando avrà letto libri che ho letto io o lui capirà che comunque tutto è piatto il fatto che trova divertente che sia divertente è in dubbio a me è piaciuto trovare delle rielaborazioni di cose già viste perché non è una roba originale ma non è proprio già visto è telefonato chiaramente telefonato però è anche l'atmosfera secondo me è fatto bene l'unica cosa che mi è piaciuta è la grafica ma minchia la grafica era bella è un po' quella roba lì la grafica è interessante i personaggi tagliati ho laccetta è bellina la sorellina che è schizzata non è male vediamo vediamo però io staremo a vedere quello poi bisogna vedere la qualità relativa io ti ripeto per come vedo io il cinema per come penso io che debba essere almeno 50 arti e almeno 50 industria in questo modo qui è solo industria mi sembra strano che sono i brevetti quel metodo di fare film come Into the Spider-Verse solo per Spider-Man secondo me faranno 190 però sai meglio di niente un film così ci vuole anni e quindi non potrei mai avere tutti quelli forse in 20 anni ne vedi tre ma è anche quello che mi fa ben sperare il fatto che si stanno prendendo tempo ma quello perché lo sai cos'è successo secondo me Dario è successo che anche chi alla fine come me non ama i fumetti nel senso che io li amavo da piccoli ma non li amo nel senso che non li leggo non che non li amo che li detesto che è l'opposto non è che è una cosa se non la si ama non si odia non amo reggere i fumetti amo reggere altro perché poi anche quella è una puttanata che poi i fumetti li leggo perché comunque sono pieno il zeppo di roba di Gaiman ma non sei sempre che non legge non sono un supereroista ok ci sta mi gardano quelli di supereroi ma se è wanted se è una cosa la vu per vendetta se è watchman cioè se è la decostruzione se fa un discorso sul supereroe a me del supereroe non me ne frega nulla invece tante altre cose tante altre mi interessano e quindi che Dio l'unica cosa che voglio dire finiamo visto un lomo d'anima che si è detto lui a me Garfield per me è il gatto basta e anche i film di Garfield dove facevano cut come facevano cut del glui e via Mazing secondo me sono inaccettabili per chiunque proprio cinema talmente brutto che non si può vedere non hanno superato molto la prova del tempo perché adesso li odiano tutti beh ma adesso li odiano tutti perché va di modi darli tutti e il pubblico è fatto così fra un anno andrà di moda a me aveva divertito il primo ma il secondo poi andrà di moda a me l'altro ma si ecco si di Sembremi sono stato per dieci anni a disso meglio Spider-Man non capisci il cazzo ora tu disso meglio Spider-Man allora lo so detto è vent'anni che io disso meglio Spider-Man non capisci il cazzo perché tu non hai letto il fumetto e vabbè ma te non hai mai letto un libro di critica cinematografica quindi non capisci il cazzo il cinema si va a pari buonissimo io rientro un attimino in campo io ringrazio incredibile performance a scazzo a scazzo io la chiamo sempre tra il serio e il fascino cioè un po' buttata di fuori un po' provocatoria più facito che altro sì ci si libera no più che altro è bello che su Twitch finalmente ci si liberi un po' si possa dire anche robe un po' non politicamente corrette belle acide belle caustiche e Garman queste robe qua quindi no proprio io Twitch mi arrestano potrei giorni ma invece no dovresti aprirlo se fa Twitch dalla galera sai quanti soldi fa ti faccio arrestare in diretta non credo si possa fare però è interessante assolutamente si può fare io prendo un nazi l'ho meno davanti alla telecamera diretta sul Twitch mi arrestano di sicuro perché è prova necessaria però sai cos'è sempre ipoteticamente ipoteticamente però c'è dire che qua è un trabocchetto perché il dissocio non funziona il dissocio non funziona perché sei a favore del nazi allora vabbè diciamo ok astrattamente astrattamente vabbè comunque ringrazio ancora Federico Frusciante che ha un canale YouTube che si chiama sorprendentemente Federico Frusciante quindi lo potete trovare lo potete andare a trovare anche fisicamente in via Magenta a Livorno c'è la sua videodrome la sua videoteca e poi Victor insomma lo conoscete su Twitch su YouTube VictorLaslo88 grazie ancora io metto un'altra punta di intervallo e poi si riparte fino al pub stasera grazie ragazzi grazie ragazzi davvero grazie a tutti grazie a tutti